Abbiamo visto tutti come la crisi pandemica ha comportato un peggioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza e oltre che una marea di posti di lavoro persi e a pagarne maggiormente le spese come tutte le inchieste confermano sono proprio le donne. Dobbiamo però anche dire che lo smantellamento dei diritti e soprattutto appunto gli attacchi nei confronti di quelli delle donne è un processo che parte dagli anni 80 che non si è mai arrestato. Partiamo dall'abolizione della scala mobile alla liberalizzazione sfrenata di ogni settore soprattutto dei servizi essenziali per le donne come per esempio gli asili nido, i consultori e fino alla crisi del 2008 dove ogni governo di qualunque colore si è succeduto in questi anni non ha fatto altro che tagliare e aumentare precarietà e sfruttamento soprattutto appunto a danno delle donne lavoratrici e soprattutto nei settori dove sono maggiormente impiegate che sono appunto la sanità, il sociale e il terziario. Abbiamo visto come ogni contratto nazionale rinnovato non ha mai inserito sostanziali miglioramenti per rendere armoniosa in qualche modo la vita lavorativa con quella familiare. Se si concede un congede in più lo si deve pagare con del salario in meno e la maggior parte dei contratti oggi sono precari perché nei contratti nazionali sempre più lunghe sono le liste di forme di precariato con cui si dà possibilità alle imprese di assumere. Questa è la logica del profitto a cui si stanno inchinando tutti i governi e sindacati. E non ultimo purtroppo è anche femminile il maggior numero di disoccupati nel paese a fronte di un alto tasso di alfabetizzazione che vede le donne in percentuale maggiormente istruite rispetto agli uomini. Quindi noi stiamo affrontando in questo seminario le principali problematiche e difficoltà che le donne vivono quotidianamente per poter conciliare la possibilità di lavorare dignitosamente con quella di poter fare altrettanto con la propria famiglia. Perché i problemi chiaramente della donna già ingenti di per sé si amplificano a dismisura nel momento in cui si decide oltre che a produrre per la società anche a riprodurre la specie. Detto questo però noi non ci accontentiamo di fare solo denuncia. Questa conferenza libera di lottare per noi vuol dire proseguire e in alcuni casi aprire un percorso di lotta che veda protagoniste principalmente le donne discriminate, vessate e oppresse da un sistema che basa la sua esistenza sullo sfruttamento e sul profitto. Vuole anche dire donne formate, determinate, coscienti e consapevoli che le soluzioni esistono. Perché lottare non solo si può ma si deve. Sbarazzarsi dello stato di sottomissione in cui il capitalismo ci spinge si può e si deve. Come e perché farlo lo trattiamo in questa discussione con Margherita Colella, una compagna del direttivo provinciale di Parma FLC e dell'Assemblea Generale Emilia Romagna. Ricordo prima di dare la parola subito a Margherita di scrivere in chat perché voglio chiedere la parola e per fare domande. La parola a Margherita. Non so se mi sentite, mi vedete soprattutto. Perfettamente. Io non mi vedo ma dovrei esserci. Scusiamo e ti vediamo chiaramente Margherita. Allora, un attimo solo che sistemo il mio computer. Perfetto. Allora, intanto grazie a Francesca per l'introduzione e in questa sessione appunto entriamo nel merito rispetto alla condizione delle lavoratrici nel nostro paese e quali effetti sta producendo la pandemia. Effetti che rappresentano una regressione importante per i lavoratrici, sia perché sono più colpite dalla crisi occupazionale e anche perché sono sotto un'enorme pressione dovuta agli effetti del lockdown, che intanto si è tradotto in un aumento del lavoro domestico e di cura, ma anche perché sono state maggiormente sottoposte a contesti insani e violenti, come tutte le statistiche dicono. Ma la pandemia appunto se ne è stata in un quadro di disuguaglianze preesistenti e questa situazione non cade dal cielo, ma è appunto il prodotto di una condizione strutturale di precarietà e di ricatto che questa società impone alle donne in misura maggiore che agli uomini. Questo non produce rassegnazione come spiegava già Francesca e non è stato storicamente così e non è questa la prospettiva che noi tracciamo oggi e proveremo anche a spiegare perché. E proprio per questo partiamo da un punto alto della storia e della lotta di classe nel nostro paese. Gli anni del dopoguerra infatti furono anni caratterizzati da un imponente processo di proletarizzazione che coinvolse anche la forza lavoro femminile. Scriveva Camilla Ravera all'inizio degli anni 50 Nelle fabbriche, nelle manifatture, nelle aziende varie lavorano un milione di donne. La conquista del posto di lavoro costa pesanti e faticose ricerche, insistenze, lotte. La strada per arrivare all'occupazione è dura e penosa per tutti in Italia, ma durissima e cosparsa di particolari amarezze e umiliazioni per le donne a cui si vuole concedere il lavoro soltanto a condizioni che esso costi meno dello quale il lavoro è maschile, che sono il più possibile dagli obblighi e contributi dell'assistenza e della previdenza sociale e dal rispetto della carriera e così via. Nella seconda metà degli anni 50, dunque, le donne che furono esporse dal manifatturiero tradizionale e dalle campagne entrano in massa in quei settori dove la meccanizzazione dei processi produttivi consentiva la sostituzione della mano d'opera maschile più qualificata. Questa produzione di massa che accentuava la quantità rispetto alla qualità richiedeva una mano d'opera fessibile, mobile, dequalificata e anche sottopagata, caratteristiche queste che connotano la forza lavoro femminile. E nonostante il duro percorso, diciamo, di lotta verso l'equiparazione del lavoro femminile, queste considerazioni della direggente comunista a inizio anni 50 rimasero concrete per tutti gli anni del boom economico che si fondarono su un enorme sfruttamento della classe operaia. E benché gli stessi sindacati proclamassero la necessità della parità salariale, nei fatti, nel 1962, su 78 contratti nazionali rinnovati, solo in 27 si prevedeva l'uguaglianza di retribuzione. Il biennio 68-69 fu un acuto splendido della lotta di classe in questo paese. Le lavoratrici giocarono un ruolo di primo piano in molte lotte significative. Ne citiamo alcune in Emilia Romagna perché danno il senso, la Pancaldi, la Maxmara, la Bloch. Fuero lotte importanti e in tutto questo processo di mobilitazione, appunto che è l'autunno caldo, si lottava per l'equiparazione sul piano lavorativo e quindi sul piano economico e sindacale, ma anche per il diritto alla salute, per il diritto allo studio e per farla finita con il sistema dell'oppressione sostanzialmente. Questa stagione fece tremare padri e padroni e in queste lotte molte lavoratrici si formarono come attiviste e come militanti. La lotta fu lo strumento principale e la strada per la formazione e per l'emancipazione di queste. Gli anni 70 furono anni che raccorsero il prodotto e il frutto di questo acuto della lotta di classe. Intanto nel 70 si raggiunge lo statuto dei lavoratori, la legge sul divorzio, le prime leggi che situiscono i nidi e i servizi per l'infanzia, la rivoluzione del diritto di famiglia nel 75, la conquista della 194 e quindi la legalizzazione dell'aborto nel nostro paese. Nel 71 con la legge Anselmi si estende la tutela alle lavoratrici madri e nel 77 la legge 903 sanciva parità di diritto e di trattamento tra lavoratori e lavoratrici. Gli anni 80 furono anni di riscossa invece della classe dominante. Col 14 ottobre dell'80 simbolicamente con la marcia dei 40.000 in Fiat si chiude un lungo ciclo di lotte e appunto i padroni a partire dal taglio della scala mobile cominciarono a riprendersi quello che erano stati obbligati a concedere e si apre una fase estrema di liberalizzazione del mercato del lavoro, nei servizi, nelle imprese e in tutto il terziario, a partire proprio dai servizi di cura. Quindi tutti gli anni 90 sono caratterizzati per una profonda erosione delle tutele ai diritti del lavoratore, a partire dal 92 col governo Amato che procede a massicce privatizzazioni, che innalza l'età pensionabile per le donne e che avvia lo smantellamento della sanità pubblica introducendo i ticket e comincia a tagliare anche tutti i fondi per i servizi di cura per anziani e disabile, un ulteriore peso che graverà appunto sulle lavoratrici. Nel 77 verrà introdotto il pacchetto TREU che introduce il tema della precarizzazione selvaggia e della flessibilità attraverso i contratti interinali. Una riforma che fa ad apripista tutta una serie di passaggi distruttivi nel mondo del lavoro, arrivando nel 2003 col secondo governo Berlusconi a partorire la legge Maroni-Biaggi, la legge 30, che apre a 43 forme nuove di contratti e al dilagare di appalti e subappalti. La crisi economica del 2008 è uno spartiacque importante. In questi anni di crisi il lavoro delle donne si concentra maggiormente nei servizi e i dati di occupazione subiscono un calo inferiore rispetto a quello maschile, più concentrato nei settori industriali. Dal 2008, sostanzialmente 2009, al 2018 l'occupazione femminile cresce dal 46,4% al 49,2%. Ma a che condizioni cresce questa occupazione, dobbiamo chiederci, e di che tipo di occupazione si tratta? Innanzitutto l'aspetto più rilevante in questi anni è la crescita del lavoro part-time, a tempo parziale, ma su questo aspetto appunto ritorneremo nell'arco della relazione. Le politiche di astrità che si avviano proprio con la crisi economica danno anche la misura di come cambia l'occupazione e come regredisce, qual è l'impatto appunto sulla forza lavoro femminile. Alcuni provvedimenti sono decisivi. Intanto il governo Monti che deregolamenta gli orari e le aperture nella grande distribuzione. La legge Fornero del 2012 che innalza l'età pensionabile per le donne e avvia lo smantellamento dell'articolo 18 e liberalizza i voucher. Il geredo Poletti col governo Renzi che sferra molto dal tacco col Job Act in questo modo aumentando ulteriormente il livello di precarietà. Dal 2012 in particolare si registra una crescita esponenziale del part-time tra le occupate e l'aspetto peculiare è il part-time involontario. Se la modalità del part-time volontario è una scelta obbligata, potremmo dire, dalle esigenze di conciliazione che questa società impone alle donne, il part-time involontario è una scelta unilaterale fatta dalle aziende ed è uno strumento utile ai padroni per ricattare, per sottopagare, per fare un uso spregiudicato della flessibilità e perché no quando conviene anche licenziare. Nel 2005 infatti il dato delle lavoratrici a part-time riguardava il 25,6% della forza lavoro femminile. Nel 2019 questo dato sale al 32,9% a dispetto dell'8,8% tra i lavoratori. Due milioni di donne circa lavorano con questa modalità. Il lavoro a tempo parziale implica trattamento retributivo ridotto e nessuna possibilità di avanzamento di carriera e quindi implica sostanzialmente anche una pensione più bassa. L'introduzione del sistema contributivo mette le donne in un'ulteriore difficoltà perché anche a causa del lavoro domestico e del lavoro di cura sostanzialmente sono le destinatari principali all'assegno di pensione sociale che è una miseria che esaggira tra i 450-460 euro circa. Questo perché nell'arco della loro vita lavorativa non maturano i contributi necessari per l'accesso alla pensione minima. Un basso salario quasi accessorio diventa anche la base materiale che rende le donne più sacrificabili, più diciamo appunto quelle che devono lasciare o abbandonare il lavoro di fronte alle esigenze di cura così come questa pandemia sta dimostrando. Per effetto della riforma Fornero quindi l'occupazione tra il 2004 e il 2016 cresce e cresce tra le over 45, anzi raddoppia passando dal 23,7% al 50,7% e parallelamente cala tra le giovani generazioni. C'è un dato che dà la CGL rispetto all'Emilia Romagna che è significativo. Per esempio circa 90.000 lavoratrici sotto i 30 anni, tra i 30 in realtà verso i 30 anni nel 2015 appunto nel campo della ristorazione e del turismo sono state pagate attraverso i voucher. E la pandemia diciamo dà un colpo decisivo all'occupazione che sta sostanzialmente precipitando. Si sono persi tantissimi posti di lavoro come ricordava Francesca particolarmente in alcuni settori nella ristorazione dove le donne rappresentano il 50,6% e nei servizi di cura e assistenza domiciliare dove le donne rappresentano l'88,1%. Penalizzate soprattutto le occupate con i contratti a termine. Stiamo assistendo sostanzialmente a una carnificina nel paese e questa carnificina ha un punto di caduta devastante nel sud Italia. Le carenze strutturali del mezzogiorno incidono significativamente sulla ricerca del lavoro e anche sulla qualità del lavoro. Gli effetti del lockdown si stanno scaricando pesantemente sulle lavoratrici. La Caritas parla di una normalizzazione della povertà nel sud del paese e ci dice che nell'ultimo anno, quindi con la pandemia, la percentuale di donne che si sono recati ai centri passano dal 50 al 55%. Migliaia di giovani madri tra i 34 e i 44 anni sono precipitate in povertà per reggere i costi, gli affitti, bollette e per reggere i costi della DAD, e quindi tablet, connessione per i propri figli. Il rapporto SWIMETS 2020 descrive come la pandemia si innesta in un quadro già molto complesso, dichiarando che in un trimestre, praticamente nel sud Italia, si perde l'80% dell'occupazione femminile. A fronte di 89.000 posti di lavoro creati tra il 2008 e il 2019, se ne perdono 171.000. A incidere su questa perdita, però, è anche il tipo di occupazione che è stata creata in questi anni. Tant'è che lo stesso rapporto dice che l'incremento dell'occupazione si è concentrato in posizioni non qualificate, contrattualmente precarie, con orari ridotti, spesso con salari più bassi. Quindi è una condizione, diciamo, strutturale che abbraccia tutto il paese e che, diciamo, ha un punto di caduta gigantesco nel sud. Quasi un quarto delle donne dipendenti a termine del mezzogiorno ha quel tipo di lavoro da almeno 15 anni. Ha ulteriore dimostrazione che le probabilità di stabilizzazione sono assolutamente scarse. E gli ultimi dati ISTAT rispetto al 2020, diciamo, completano un quadro disarmante. Si perdono 444.000 posti di lavoro, di cui 312.000 tra le lavoratrici e il dato di dicembre 2020 è quello più eclatante. 101.000 sono i posti di lavoro che si perdono, 99.000, quindi il 98%, tra le lavoratrici. Il 2019 è stato l'anno del picco dell'occupazione femminile che è arrivato al 50,1%. Oggi questo dato si attesta attorno al 48,6% e tutte le inchieste e gli articoli che stanno inondando la stampa negli ultimi giorni parlano di un passo indietro significativo e che portano l'occupazione ai livelli almeno di 4 anni fa. E il tema decisivo e l'aspetto rilevante è la precarietà che appunto si innesta in questo quadro. Se il blocco dei licenziamenti in qualche modo ha tutelato un settore dei lavoratori industriali, nel frattempo un migliaia di contratti a termine sono evaporati. E un terzo delle donne lavora con contratti a termine, il 44% di queste in part-time, l'82% in forme di part-time involontario. Ma le lavoratrici sono state e sono protagoniste in questa fase di grande emergenza, non soltanto rispetto alla sacrificabilità che purtroppo si sta dimostrando in questi dati, ma anche perché sono state in prima linea nei settori essenziali e sono in prima linea diciamo in tutta una serie di settori che non hanno mai smesso di lavorare durante questa crisi. Nei primi giorni della crisi pandemica, di fronte all'arroganza dei padroni che ha trasformato i lavoratori anche nei settori non essenziali in carne da macello, c'è stata un'operaia della Bitron di Cormano, dall'altra una delle aziende che si è immobilitata negli scioperi delle giornate di marzo, scioperando appunto, che dichiara in un'intervista pubblica quanto segue. La Fornero ci manda in pensione dopo 41 anni di lavoro, io ho 61 anni, non ce la facciamo più, siamo rotte, malate, non abbiamo le braccia, le gambe, siamo stanche. Prima il profitto poi la salute e a casa abbiamo anziani da accudire perché non ce le accudisce lo Stato, sono sulle nostre spalle. Abbiamo bambini perché curiamo i nipoti, ci facciamo carico di tutto, dobbiamo pensare a tutto e siamo in meno tutelati. Questo è il quadro ed è il sentimento che esprime questa intervista che dal nostro punto di vista esprime in linea più generale un sentimento di rabbia diffuso tra le lavoratrici oggi. Qualche mese fa l'Avvenire spendeva parole di benevolenza sulla capacità di resilienza delle donne molto brave a reggere, molto brave ad adattarsi senza piegarsi, molto brave quindi ad accettare quasi con passività il destino che viene loro assegnato. Noi chiaramente non accettiamo questa lettura caritatevole e pensiamo anche che sia fuori luogo alla luce di quello che sta avvenendo e anche per il sentimento di rabbia che le lavoratrici stanno esprimendo. Sicuramente le lavoratrici oggi sono molto stanche ma sono altrettanto combattive e in questo anno qualche elemento l'abbiamo visto in alcuni settori che danno l'idea di quello che è diciamo il fuoco che sotto la cenere comincia a farsi strada. Abbiamo visto per esempio quest'autunno lo sciopero delle lavoratrici dei multiservizi che non ha conosciuto crisi durante la pandemia anzi sono state sottoposte ad un ipersfruttamento selvaggio imposto dalle sanificazioni e dalla necessità appunto delle sanificazioni imposte dalla crisi sanitaria e che lavorano in una condizione contrattuale con un contratto nazionale molto debole e per pochi euro all'ora tutte quasi regime di part time involontario oppure la lotta piccola ma simbolica delle lavoratrici della Iox negli appalti di questa azienda nel campo dell'abbigliamento all'interporto di Bologna che di fronte alle pressioni dei padroni che per aggirare il blocco dei licenziamenti inducevano le lavoratrici a licenziarsi imponendo loro orari inconciliabili con turni all'alba o fino a tarda a tarda sera hanno lottato con uno slogan molto emblematico ovvero vogliamo essere madri e lavoratrici allo stesso tempo ci sono dei segnali quindi importanti anche di consapevolezza e di determinazione ed emergono anche in quei settori che sono stati sottoposti diciamo a un'enorme pressione durante questa pandemia settori dove l'emergenza sanitaria diciamo fa saltare tutti i nervi scoperti di anni di attacchi di tagli agli organici e di mancanza di risorse in particolare appunto nella scuola nella sanità e anche per altri versi nella grande distribuzione infatti le assunzioni che abbiamo visto i famosi diciamo organici covid non hanno coperto nella sanità e nella scuola nemmeno una parte dell'organico necessario in una fase ordinaria quindi al di là della pandemia 50.000 sono i docenti covid che sono stati assunti in questo periodo a fronte di 200.000 cattedre scoperte e nella sanità a fronte di 45.000 unità in meno tagliate nel corso di questi anni sono stati assunti nei primi mesi 33.857 lavoratori ovviamente con forme ancora più precarie dei precari il dato nazionale non è non è molto chiaro proprio perché la sanità subisce da anni un processo di enorme regionalizzazione ma un elemento che emerge in questo settore in particolare dove le donne sono state in prima linea è la pressione e anche il fatto che non solo le donne sono state in prima linea nel lavoro ma anche in prima linea nell'ammalarsi in un contesto appunto e in una fascia di lavoratori dove il 70% quasi è caratterizzato appunto da da è composto da lavoratrici secondo un dossier di qualche giorno fa dossier donne lanciato diciamo dall'Inail infatti anche il livello di infortuni riguarda principalmente le lavoratrici tra queste soprattutto le infermiere circa l'81% e infatti su 147.875 denunce al gennaio del 2021 ben 102.942 riguardano donne ma questo dossier ci dice anche molto di cosa significa l'invecchiamento del personale sanitario tant'è che tra il 2015 e il 2019 a fronte di un aumento dell'occupazione in questo quinquennio i casi di infortuno sono aumentati dell'1,8% particolarmente nella fascia tra le lavoratrici e nella fascia d'età 65-69 anni e appunto è questo il quadro del paese oggi non è andata meglio neanche nei settori della grande distribuzione ci chiediamo tra l'altro tutta la retorica sulla famiglia e sulla genitalità dove finisce quando queste lavoratrici sono obbligate a lavorare in tutti i festivi e in tutti i fine settimana e sicuramente quando le inchieste parlano delle acrobate magari penseranno anche alle lavoratrici di questo settore dove i turni spezzati e ritmi sono assolutamente inconciliabili con le esigenze personali e familiari ma durante questa pandemia sono emersi elementi anche di novità rispetto diciamo al lavoro nel nostro paese particolarmente rispetto al tema dello smart working in realtà prima dello scopo della pandemia questa modalità di lavoro riguardava 500.000 lavoratori nell'arco di qualche settimana ha coinvolto 8 milioni di lavoratori il primo dato interessante è che mentre questo lavoro riguardava prima della pandemia diciamo un settore limitato di lavoratori maschi e con diciamo carriere medio-alte durante la pandemia per le esigenze di cura imposte e scaricate completamente sulle lavoratrici il dato si inverte e sono molto di più le lavoratrici che lavorano in questa modalità e ancora di più le lavoratrici che lavorano in questa modalità avendo dei figli e chiaramente c'è una differenza sostanziale tra lo smart working tra il telelavoro imposto dalle aziende e lo smart working come dovrebbe essere regolato diciamo dalla legge quello che abbiamo visto e la cosa alla quale abbiamo assistito è una diciamo un'imposizione delle aziende che hanno scelto in maniera unilaterale come lavorare quanto lavorare e anche con quale modalità tant'è che la stessa CGL pubblica un'inchiesta pubblicato un'inchiesta in riferimento ad aprile e maggio dello scorso anno dichiarando per le donne questa modalità di lavoro è più pesante allenata complicata e stressante e infatti il dato più rilevante in questa rispetto a questa esperienza è proprio la dilatazione dei tempi di lavoro i padroni hanno applaudito all'aumento della produttività hanno applaudito diciamo a un risparmio dei costi e anche a una diminuzione dell'assenfeismo sostanzialmente anche perché tantissime lavoratrici hanno lavorato senza usare permessi senza poter usare diciamo congedi e anche in caso di malattia questo è un aspetto importante perché è un aspetto che ritornerà nel prossimo periodo e si approfondirà in particolare diciamo rispetto al fatto che siamo di fronte ad una nuova ondata e a un ritorno massiccio alla didattica a distanza quello che emerge in questa in quest'anno è il tema della conciliazione imposto appunto dalla società che è impossibile e che è diventato ancora più impossibile durante questi mesi di pandemia Eleanor Marx nel 1896 in un dibattito del Partito Socialdemocratico rispetto alla condizione femminile diceva rispetto alla doppia oppressione e nel dibattito tra Bax e Clara Zettichin diceva sì compagno Bax Clara Zettichin aveva tutto il diritto di dire con Engels che la donna è la proletaria di casa avrebbe dovuto dire piuttosto che la donna sotto il regime capitalista è una doppia proletaria ha due tipi di lavoro il lavoro di un produttore di fabbrica e il lavoro di una domestica moglie e madre da un lato i suoi muscoli e il suo sangue sono spesi per il beneficio immediato del capitalista tra l'altro per il beneficio futuro per sostenere e nutrire una nuova generazione di proletari lavora lì lavora qui queste parole scritte nel diciannovesimo secolo non ci sembrano neanche tanto distanti dal sentimento che esprimeva l'operaia di Cormano che abbiamo citato ed effettivamente l'aspetto della conciliazione e la maternità sono ancora uno scoglio decisivo nelle scelte lavorative e nelle rinunce che le donne sono ancora obbligate a fare ed è un impatto importante tant'è che ancora oggi una donna su cinque dichiara di abbandonare il lavoro con la nascita di un figlio a questo chiaramente si unisce la carenza di una rete di servizi di cui già parlava già parlava Francesca e c'è un dato che è rilevante anche se è pre-pandemia che ci dà anche l'idea di cosa significa diciamo dover scegliere ancora oggi tra la maternità e il lavoro nel 2017 2018 frequentava il nido nel nord del paese un bambino su cinque nel sud del paese un bambino su venti e ancora oggi appunto la scelta della maternità è vincolata anche all'assenza e alla carenza totale diciamo di uno stato sociale degno di questo nome e la maternità contribuisce a un altro aspetto che discrimina le donne lavoratrici rispetto anche ai loro compagni di lavoro e contribuisce appunto al divario salariale per quanto ci sono leggi che tutelano la maternità disciplinando i congedi e tutti diciamo i sostegni economici del caso sostanzialmente una lavoratrice madre affronta quello che viene definito il child penalty ovvero le dimissioni forzate con la nascita di un figlio o anche il divario retributivo di maternità ovvero un'erosione vera e propria della retribuzione dovuta a interruzioni di lavoro o appunto al lavoro part time e se l'assenzione obbligatoria è pagata all'ottanta per cento i congedi facoltativi quindi l'assenzione facoltativa è pagata solo al trenta per cento quindi sostanzialmente questi congedi non sono un diritto ma per tantissime lavoratrici diventano un vero e proprio privilegio e questo elemento è un elemento decisivo durante la pandemia il precedente governo il governo Conte ha messo in campo una serie di misure col decreto forretale col decreto di rilancio che sono stati assolutamente insufficienti i congedi pagati al cinquanta per cento per quindici giorni poi estesi a trenta giorni o il bonus babysitting che è stato chiaramente considerato in alternativa a questi congedi e hanno riguardato una fetta diciamo piccola di lavoratori che sostanzialmente sono stati assolutamente irrisori e questo ha messo le donne in una condizione di ulteriore pressione tant'è che per esempio durante i mesi della DAD il 65% delle lavoratrici ha dichiarato che se fosse continuato ancora pertanto questo periodo erano sostanzialmente obbligate a lasciare il lavoro e questo elemento appunto si approfondirà ma ci sono altri elementi che contribuiscono al divario salariale a partire da quello che viene definito appunto la segregazione occupazionale che consiste nell'essere inquadrati in ruoli di minor responsabilità per adattare sostanzialmente le condizioni lavorativi alle esigenze familiari e questo si traduce in mancanza di scatti di carriera e quindi anche a rinunce di carattere salariale secondo i dati europei il divario salariale in Europa si attesta al 16% in Italia solo al 5% questo innanzitutto è un dato che va letto alla luce delle caratteristiche dei salari italiani che si caratterizzano appunto per essere tra i più bassi in Europa ma ci sono oltre al gender pay gap cioè quindi oltre diciamo a la differenza sulla singola ora retribuita ci sono altri elementi che contribuiscono ad allargare il divario salariale innanzitutto il livello di occupazione che in Italia appunto è basso il tempo lavorato quindi il part time che appunto coinvolge tantissime lavoratrici e appunto sono elementi che contribuiscono tant'è che alla luce di questi ulteriori fattori nel 2014 il divario salariale in Italia era al 43,7% che è un dato molto più preoccupante ma più realista ora in questi mesi noi abbiamo diciamo toccato con mano quello che è stata la pressione che le lavoratrici hanno subito e pensiamo che questo è solo l'inizio diciamo di un processo che non solo si approfondirà ma che vedrà un certo protagonismo e vedrà questa rabbia trasformarsi anche diciamo in unione e in voglia di lottare in questi anni i governi che si sono succeduti hanno rivolto alle donne sostanzialmente politiche irrisorie e con carattere anche diciamo familista che non hanno cambiato in nulla le condizioni reali delle lavoratrici dal bonus bebè alle campagne sulla fertilità e sussidi di vario di vario gene ma appunto si parla molto diciamo della condizione delle madri e delle famiglie ma qual è lo stato delle famiglie oggi Repubblica qualche giorno fa diciamo ha riportato alcuni dati dell'Istat sul livello di povertà e ci sono dei dati assolutamente disarmanti rispetto al 2020 quindi nel corso di quest'anno i poveri sono aumentati sono più 335 mila le famiglie povere registrate oggi si passa da un milione a due milioni di poveri e secondo la Caritas testuali parole l'identikit dei nuovi poveri si cristallizza nel volto di una donna di 40 anni con due figli questo diciamo è lo scenario e in questo scenario si muoverà il governo di alto profilo di Draghi affrontando un approfondimento della crisi economica un'ondata di disoccupazione noi pensiamo che al di là delle illusioni che diciamo da più parti si nutrono nei confronti di questo governo questo governo sarà un governo contro il sud del paese contro le giovani generazioni e contro le donne si prevedono infatti riforme strutturali che taglieranno ancora il welfare innalzeranno probabilmente l'età pensionabile ancora e saranno pagati con la precarietà ed è interessante che le illusioni rispetto a questo governo vengano nutrite dalla stessa CGL che dichiara appunto nelle parole del segretario nazionale Landini che questo governo deve essere messo alla prova e deve essere giudicato rispetto appunto a quello che farà piuttosto che dalla sua composizione la ministra Bonetti intanto rispetto a una nuova ondata che avanza rispetto diciamo alle chiusure a cui stiamo assistendo e al ritorno massiccio alla DAD dichiara che ci saranno aiuti per le famiglie quali sono questi aiuti per il momento non ci sembrano così distanti da quelli precedenti parla infatti di un potenziamento dello smart working dei voucher dei visiting e dei congedi garantiti al 50% della retribuzione ci sembra veramente molto poco che l'impianto dell'elaborazione principale della CGL in questo momento sia attorno appunto ai fondi europei considerati come diciamo l'occasione unica che si ha nel paese oggi per cominciare a ragionare di politiche di sostegno alle famiglie di sostegno ai lavoratori di sostegno allo stato sociale a queste si uniscono anche le illusioni di un investimento rosa di questi fondi che vengono dalle dichiarazioni di alcune organizzazioni femministe noi pensiamo che non possiamo accettare la miseria che ci viene dato o le briciole che ci vengono date e che è necessario appunto cominciare a lottare e su questo vado verso l'ultimo aspetto che toccherò in questa introduzione abbiamo visto in questi anni un forte processo di mobilitazione e di radicalità che si è espresso tra le donne tra i lavoratrici e tra le giovani particolarmente attorno alla giornata contro la violenza contro le donne e verso l'8 marzo in particolare nel 2016 2017 e anche quest'anno è stata diciamo chiamata è stato chiamato lo sciopero femminista da parte di organizzazioni femministe ora io non entro diciamo nel dibattito teorico che produce questa parola d'ordine perché ne abbiamo parlato in parte stamattina e perché penso che nel corso di questo convegno ci ritorneremo sulla parola d'ordine dello sciopero femminista ci preme però in questa discussione concentrare è una critica è una riflessione critica rispetto alla CGL e rispetto appunto ai compiti che dovrebbe assumersi oggi un sindacato che difende il punto di vista di classe il punto di vista delle lavoratrici alla luce anche diciamo di questa emergenza e degli effetti devastanti sulle lavoratrici pensiamo che la CGL si sia svincolata in questi anni dalla responsabilità e tuttora lo fa con una nota nazionale di qualche giorno fa non aderendo allo sciopero e si sia svincolata dalla responsabilità di costruire questa giornata di mobilitazione di organizzare discussioni che coinvolgessero le lavoratrici appunto e di organizzare concretamente la presenza e il protagonismo delle lavoratrici verso questa giornata di lotta perdendo anche la possibilità dal nostro punto di vista di portare in piazza diciamo il punto di vista di classe il punto di vista dei lavoratori è un programma adeguato all'altezza diciamo dello scontro che oggi si apre e su questo noi continueremo anche nei nostri luoghi di lavoro a continuare la discussione a continuare la critica e a provare a coinvolgere e a discutere con le lavoratrici in questi anni le mobilitazioni hanno riportato alla ribalta quindi la condizione femminile e la questione femminile le donne sono sicuramente il settore più colpito ma anche il settore dove pensiamo che la radicalizzazione che si sta sviluppando in linea generale nella società possa avere un carattere più acuto e anche più esplosivo nella prossima fase e la pandemia ha squarciato un velo ha chiarito a milioni di lavoratori che cos'è questo sistema e cos'è questo sistema per le lavoratrici e per le donne è un sistema che ti fa entrare nel mercato del lavoro a condizioni peggiori degli uomini e che usa questa condizione per dividere il fronte comune degli sfruttati e per proporre un modello a ribasso per schiacciare i diritti dei lavoratori tutti allo stesso tempo a noi viene chiesto anche la funzione sociale della cura come questa emergenza dimostra ma appunto il capitalismo crea le condizioni per la sua distruzione e lo stesso modello diciamo della famiglia tradizionale a fondamento di questa società a pilasso di questa società viene minato continuamente appunto dall'ingresso delle donne massiccio nel mondo del lavoro e dalla lotta dall'unione dal senso collettivo che in qualche modo diciamo rigetta il ruolo di asservimento che il capitalismo vuole darci e appunto abbiamo visto tante mobilitazioni nel corso di questi anni che pensiamo siano soltanto diciamo l'inizio di un processo molto più forte che si prepara anche perché oggi le donne rappresentano una parte significativa della forza lavoro e pensiamo che proprio alle lavoratrici e alle giovani generazioni dobbiamo rivolgere un programma di lotta di emancipazione e anche di alternativa rivoluzionaria innanzitutto è necessario diciamo partire da le esigenze che pone questa pandemia quindi una lotta spregiudicata contro la precarietà per la stabilizzazione e anche per diciamo avviare una massiccia campagna di assunzioni di lavoratori giovani in settori appunto come la scuola e come la sanità che sono usciti devastati da questa pandemia e soprattutto ragionare della questione della conciliazione che è un tema scottante che è emerso durante questa pandemia a partire dal fatto che la maternità non deve essere una rinuncia a partire dal fatto che rivendichiamo i congedi al cento per cento retribuiti ed estesi a tutte le lavoratrici e soprattutto se parliamo di conciliazione ci chiediamo anche a cosa servono i negozi aperti nei festivi se non al profitto dei padroni su questo tema è importante tornare e soprattutto è importante tornare rispetto alla questione dello smart working che ancora sarà oggetto di dibattito pensiamo che questo questa modalità vada discussa vada regolata con i rappresentanti sindacali e che innanzitutto si possa lavorare ad avere tutti i diritti che sono garantiti ai lavoratori in presenza dalla pausa pranzo al riconoscimento degli straordinari a tutto quello che riguarda la sicurezza eccetera eccetera e chiudo sulla questione dell'oppressione e del lavoro e del lavoro di cura perché è un tema decisivo rispetto a porre alle radici la questione della liberazione delle donne e prendo a presido le parole di Trotsky che nel 25 su questa questione scriveva modificare la posizione delle donne della donna alla radice è possibile solo se tutte le condizioni sociali della famiglia dell'esistenza domestica vengono modificate è impossibile avanzare verso il socialismo senza liberare la donna lavoratrice dalla schiavitù della famiglia e della casa e ogni nuova misura ogni legge ogni passo pratico nella costruzione economica e sociale deve confrontarsi con la questione di come influenzerà la famiglia se peggiorerà o alleggerirà il destino delle madri se migliorerà la posizione dei bambini queste parole ci sembrano ancora molto concrete e molto attuali perché dal nostro punto di vista una vera liberazione della donna dal lavoro domestico e di cura significa investire massicciamente nella riorganizzazione dei servizi di menze pubbliche di lavanderie dei servizi di cura per i disabili e per gli anziani e dell'infanzia appunto perché questo tipo di lavoro non sia scaricato nel privato ma sia appunto dovere della società per ottenere queste vittorie per portare avanti questo programma e per rivendicare questo programma di rottura è necessario dal nostro punto di vista che il sindacato si faccia carico si ingaggi ingaggi questa questa lotta non bastano poterosa non bastano seminari che descrivono la condizione delle delle lavoratrici ma perché questo accada è anche necessario che emerga il protagonismo di noi tutte lavoratrici e che in qualche modo la nostra capacità di organizzarci di lottare sia anche lo strumento per puntellare per incalzare e per inchiodare le responsabili cioè i dirigenti i rappresentanti i nostri rappresentanti alle responsabilità alle quali sono sono chiamati abbiamo cominciato e concludo questa discussione partendo appunto da un acuto della lotta di classe da una stagione di lotte che è stata una stagione di enormi conquiste per il movimento operaio e per le lavoratrici in particolare e non è casuale non l'abbiamo fatto per spirito di memoria ma perché appunto pensiamo che quella stagione ci indica ancora oggi la strada da percorrere nella nostra lotta e nella nostra emancipazione noi non abbiamo bisogno di dichiarazioni caritatevoli né diciamo di sentirci dire quanto siamo brave quanto siamo acrobate o equilibriste o eroine ma appunto lottiamo per avere diritti per avere giustizia e per costruire appunto una società libera dallo sfruttamento ed è questa lotta comune contro questo sistema di sfruttamento che ci mette una condizione di doppia pressione che pensiamo che nel prossimo futuro le lavoratrici e le giovani giocheranno un ruolo di primo piano e questo convegno e tutto il nostro lavoro militante diciamo va in quella direzione e per prepararci a questa prospettiva grazie grazie a Margherita per questo esaustivo esaustiva presentazione di questa sessione adesso dovremo iniziare gli interventi vi anticipo che avremo tanti interventi in questa discussione quindi invito già a mandarmi la richiesta di intervento via chat possiamo stabilire una durata di dieci minuti per intervento per il momento e darò i tempi nella chat per cui vi invito a tenere d'occhio diciamo la chat durante il vostro intervento la discussione in totale durerà intorno alle tre ore e mezza quindi poi lasceremo nell'ultima mezz'oretta il tempo Margherita per poter concludere nel frattempo nella chat avrete potuto vedere ci sono tutta una serie di link che rimandano a una serie di articoli che abbiamo pubblicato in preparazione di questo convegno invito tutti a prendere nota a leggerli in ultimo è stata inserita la nostra dichiarazione rispetto alla posizione della CGL sull'otto marzo una occasione mancata di partecipare a uno sciopero mondiale delle donne e delle lavoratrici quindi io a questo punto partirei con gli interventi abbiamo già una compagna che ha chiesto di intervenire Laura Parozzi se c'è le darei subito la parola grazie scusate cerchiamo un attimo di riattivare l'audio a Laura scusate 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 mi sentite? Sì Laura ti sentiamo ok adesso ci siamo la parola ok ciao a tutti sono una compagna della sezione di Milano, una compagna di sinistra classe di rivoluzione da vent'anni. Devo dire la verità che soprattutto la relazione di Oggi Pomeriggio, di Margherita, mi ha fortemente emozionato perché mi sono vista un film praticamente della mia vita, soprattutto lavorativa, ma anche di donna in generale. Allora, prima di fare questo intervento mi sono chiesta di cosa volessi veramente parlare, soprattutto cosa volessi trasmettere in questo convegno, soprattutto alle giovani compagne, donne che si affacciano sia al mondo del lavoro oggi, sia in generale in questo tipo di società, che dicono sia evoluta, ma sulla parità mi sembra che non si sia ancora ben assestata. Se guardiamo appunto indietro come c'è stata la relazione stamattina di Arianna, molto esaustiva, la donna ha sempre subito un trattamento diverso rispetto all'uomo, una disparità salariale, soprattutto una maggiore flessibilità, precarietà, il peso domestico interamente sulle sue spalle e non a carico soprattutto della società che non ne ha mai spartito minimamente l'onere né in passato né tantomeno adesso. E poi nell'introduzione di Margherita abbiamo visto che con l'avvento dell'autunno caldo, della lotta di classe andiamo avanti nella conquista dei diritti che prevedono il diritto alla salute, allo studio. Negli anni settanta vedono leggi rivoluzionarie e soprattutto in materia di lavoro, di diritto di famiglia, allo statuto dei lavoratori, l'istituzione dei primi nidi, come diceva appunto Margherita, i primi nidi per l'infanzia e poi a seguire il diritto al divorzio, la cento novantaquattro eccetera. Saranno poi tutti argomenti che saranno oggetto del convegno di domani. Oggi diciamo che sì, sono stati fatti tanti passi avanti, sono leggi rivoluzionari rispetto al passato, anche sulla maternità lo dicevamo, i congedi parentali, però sono tutte armi a doppio taglio dove la donna appunto subisce un taglio salariale non indifferente e sebbene siano magari delle tutele in ogni caso la donna ci smena. Io dico sempre che bisogna comunque tenere a mente due cose. I diritti sono conquistati comunque spesso e volentieri con sangue, sudore, dure lotte e ci mettiamo davvero poco a perderli perché questo tipo di società comunque tende a ristabilire un proprio ordine che non è sicuramente come ordine delle cose non prevede diritti e parità e quindi bisogna sempre tenere alta la guardia, ben alte le antenne perché ci si mette veramente poco a perdere ciò che si è conquistato. Secondo la parità di genere è come abbiamo detto anche stamattina non è il prevalere di un uomo su una donna, di un genere sull'altro come spesso può venire scambiato ma è una parità, è lotta di classe, è ribaltamento di questo tipo di società, di questa società capitalista che non ci permette di essere uguali. Quindi non esistono uomini, donne, diversità di genere secondo me, ma lavoratori tutti uguali e esseri umani tutti uguali. Detto questo, premesso questo, sentendo appunto parlare Margherita mi sono vista proprio il film della mia vita sia come come donna che come madre. Non voglio peccare di presunzione dicendo io sono stata brava a fare quello che ho fatto, quello che sono oggi. Spero semplicemente con un breve escursus dei punti più importanti che possono essere ad esempio aiutare molte donne che potrebbero secondo me ravvisarsi in quello che io ho vissuto sulla mia sulla mia pelle. Io ho iniziato a lavorare ovviamente come la maggior parte delle persone in nero con tanti lavoretti e ho avuto un contratto a tempo indeterminato fino a quando ho avuto come diceva Margherita il primo figlio. Il primo figlio non avevo aiuti familiari per svariati motivi, i nidi o comunque gli asili da casa mia abitavo a Milano erano lontani e mi sono affidata in un primo momento quando sono rientrata dalla maternità a una babysitter la quale per quanto potesse chiedermi poco io stavo via 12 ore al giorno perché oltre il lavoro mi chiedevano straordinario ed ero anche molto lontana da casa il mio stipendio non bastava di 8 ore, non bastava coprire queste 12 ore di babysitteraggio dopodiché dopo un anno mi sono licenziata per forza per forza e quando mi si è presentata l'occasione per caso parlando con delle mamme dell'asilo di mia figlia allora poi mi ero trasferita in un paese nell'interland milanese mi è capitato per caso di mandare il curriculum in UPS allora siamo alla fine degli anni 90 praticamente era l'inizio del 2000 e in quel periodo iniziavano a pullulare i call center che era un bacino di lavoro flessibile soprattutto destinato alle donne soprattutto part time per la quasi maggioranza part time UPS assumeva ogni mese nei primi sei mesi del 2000 di questo sono certa dopo mi si perde un po' la memoria circa 20 persone quasi tutte donne al mese esclusivamente per call center esclusivamente part time e quando ho iniziato io c'era un solo uomo in tutto il call center questo per darvi l'idea e per me è capitato in quel momento come se fosse una manna effettivamente perché era vicinissimo a casa era un orario di ma hanno addirittura chiesto se volevo fare mattina pomeriggio che tipo di orario volevo fare facevo nove e tredici mi permetteva di portare i miei figli all'asilo e a scuola perché nel frattempo appunto ne avevo due e di andare a lavorare di ritornare a casa di sistemare casa e quant'altro e di andarli a prendere a scuola nel pomeriggio e quindi è stato un colpo di fortuna in quel momento soprattutto perché l'anno successivo alla mia la mia entrata in UPS sono rimasta anche vedova appunto con due bambini ancora piccoli una ne aveva cinque di anni e l'altro undici ma è un'arma a doppio taglio a doppio taglio come abbiamo detto lavorare part time perché effettivamente era l'unica entrata che avevo è vero che mi permetteva di curare i miei figli però i miei figli già andavano comunque a scuola all'asilo e anche chiedere un full time mi era stato ovviamente negato e quindi è stato un cappio al collo e nonostante ciò però una cosa voglio trasmettere io quasi subito sono entrata in contatto col mondo sindacale e anche politico e questo mi ha dato una grande forza perché nello stesso tempo poteva essere un cappio al collo perché poi alla fine è stato determinante tutto quello che mi è accaduto successivamente ma tornassi indietro farei esattamente le stesse cose che ho fatto non è che non ho non ho avuto paura di perdere il lavoro mettendomi a fare il sindacato politica entrando anche negli organi direttivi del sindacato e quindi essendo spesso assente dal lavoro e quindi subendo discriminazioni nel mondo del lavoro perché ovviamente non essendoci spesso al lavoro mi è stata anche negata una formazione per poter anche andare avanti e sono stata relegata a fare un lavoro come quelle donne che tornano dalla maternità dicevamo prima e vengono in qualche modo demansionate anche se di fatto non lo possono essere di fatto vengono vengono messe a ripercorrere le stesse cose che hanno fatto all'inizio perché sai sei stata a casa tanto tempo e così lo stesso trattamento è stato riservato a me però ho insegnato anche ai miei figli che non c'è cosa più importante che il coraggio delle proprie idee e la determinazione con cui si portano avanti e il rischio vale sempre la pena di correrlo e penso che ho fatto questo collegamento mentre ho sentito gli interventi di stamattina e anche l'introduzione di oggi pomeriggio che se avessi vissuto il periodo della pandemia e mi avessero lasciato a casa relegata in un telelavoro che come abbiamo detto spesso non è smart working ma è telelavoro che è molto diverso che ti obbliga gli stessi orari alle stessi straordinari gli stessi capi al collo che hai sul sul luogo di lavoro ma è molto peggio perché c'è un aumento della produttività non indifferente per le aziende e tu sei a casa sei a casa svolgere il ruolo di madre di tutti i lavori domestici e quello che mi fa inorridire è che purtroppo ancora tante donne credo credono o vogliono credere o se la raccontano che questo sia un privilegio perché in questo momento effettivamente in cui aprono e chiudono le scuole facendo il bello e il cattivo tempo come vogliono le donne sono le prime a essere penalizzate perché la ora devi chiudere ok perdonami sono le prime a essere penalizzate perché devono essere a casa a curare i propri figli eh però è un vero capio al collo perché ti toglie sia a livello sindacale eh un contatto col sindacato e con i tuoi diritti sia a livello umano mh ti senti più isolato e quindi non ehm io penso che non dobbiamo assolutamente eh perdere di vista che eh il nostro motto è quello di andare avanti a testa alta tenendo sempre presente che è la società che deve cambiare possiamo farlo se siamo uomini donne non importa dobbiamo essere uniti in un unico genere che è quello che ci contraddistingue essere compagni io vi ringrazio e chiudo ok grazie mille Laura abbiamo già mh tutta una serie di interventi eh adesso si prepara Marzia Ippolito e eh subito dopo Marzia Irene Forno chiedo eh ancora di controllare la chat eh in cui darò i tempi abbiamo eh al momento dodici interventi segnati eh direi che eh durante l'intervento di eh Marzia i compagni possono continuare a chiedermi la parola oltre che a scrivermi in privato eventuali eh domande o interventi iscritti che si vogliono girare a tutti e e dopo magari eh chiudiamo in modo da poter eh gestire meglio i tempi di ogni intervento quindi darei la parola a Marzia e si prepara Irene Forno sì grazie ehm io sono Marzia sono una compagna di Napoli grazie Serena avrei parlato anche di più ma non era possibile ok Laura chiudi l'audio per favore ok posso vado ehm ehm volevo dire un paio di cose rispetto a mh all'occupazione femminile eh partendo da un dato eh dal loro ingresso in massa eh nel mondo del lavoro eh le donne hanno sempre ricoperto posizioni precari flessibili eh questo era vero negli anni cinquanta eh nei settori ad alta mano d'opera femminile eh dove eh il lavoro eh il lavoro a termine era utilizzato per raggiungere la legge eh a tutela eh sulle delle lavoratrici madri eh questi contratti nei fatti rappresentavano un'alternativa licenziamenti per matrimonio eh le dimissioni in bianco le clausole di nubilato erano tutti elementi che venivano utilizzati dai padroni molto frequentemente per rendere inoperanti eh le leggi sulla tutela delle lavoratrici eh ed è vero anche oggi eh con il precariato che ormai ha assunto un carattere strutturale in ogni settore eh il ricorso eh a contratti precari eh colpisce evidentemente tutti eh ma attacca in modo violento e più deboli eh in primis le donne eh esiste nei fatti eh una divisione sessuale del lavoro che viene imposta da questo sistema economico eh che obbliga le lavoratrici ad una posizione di di subalternità lampante nei settori ad alta partecipazione femminili come oggi avviene ad esempio nel terziario ma che però vale in generale. Eh le donne eh ieri come oggi eh ricoprono incarichi meno qualificati hanno le paga peggiori i contratti più flessibili quelli con meno tutela ed è proprio eh l'intermittenza del loro lavoro che concede ai padroni in fase di crisi eh di poterle licenziare come avviene oggi in tutte le altre fasi conduce poi ad un ipersfruttamento eh sul posto di lavoro eh e in casa alla dipendenza della lavoratrice dall'uomo. Eh un nuovo ingresso di massa delle donne nel mondo del lavoro è poi conciso con una grande stagione stagione di precarizzazione quella iniziata negli anni ottanta e diffusasi negli anni novanta. Eh è un'epoca in generale di arretramenti che incide particolarmente sulle lavoratrici eh la cui condizione di discriminazione ha molto a che fare eh con quella che vivevano le donne negli anni cinquanta. Eh il salto di qualità che si compie eh in questo decennio tra gli anni ottanta e gli anni novanta eh non è rilevante per l'occupazione femminile. Eh perché se mentre negli anni ottanta eh viene introdotta la flessibilità del lavoro eh negli anni novanta poi alla flessibilità contrattuale si aggiunge e si associa anche la flessibilità salariale. Eh la percentuale delle donne sul totale dei lavoratori part time nel millenovecentonovanta arriva ad essere più alta del settanta per cento eh ed è proprio in questa fase che i salari iniziano a differenziarsi sulla base eh sulla base del genere. Eh e a partire da questi anni eh che si iniziano ad utilizzare in maniera feroce eh forme atipiche di impiego come i contratti di solidarietà eh in primis nell'industria tessile e nell'abbigliamento per ridurre eh l'orario di lavoro delle donne. Alla fine degli anni cinquanta poi eh cresce a dismisura eh il settore dei call center eh in cui quasi il settanta per cento delle operatrici e donna eh un settore che diventa apripista eh di forme di sfruttamento che esasperano la precarietà che assorbono una quota rilevante di giovani donne disoccupate eh specialmente al sud eh che vengono assunte con contratti eh infimi con paghe eh bassissime licenziabili in qualsiasi momento oppure precarie per la vita. Eh alle donne vengono riservati contratti a tempo parziale eh negli anni in cui lo stato iniziava a tagliare sui servizi sociali eh e anche su quelli di assistenza. Eh sulla donna ricadeva dunque tutto il peso eh del lavoro domestico e anche dell'accudimento dell'accudimento dei figli. Eh l'assenza dei servizi pubblici eh significa oppressione per la donna eh e significa eh schiavitù eh per per le lavoratrici che sono costrette ad accettare anche lavori precari. Eh in questo senso i contratti part time rappresentano una gabbia per le per le per le lavoratrici che le le costringe appunto ad una doppia presenza. Eh un trattamento discriminatorio eh che ripropone l'emergere di dimissioni in bianco, l'espulsione delle lavoratrici madri eh e il lavoro eh parziale involontario. Eh negli anni recenti eh l'utilizzo dei contratti precari a tempo parziale si è poi rafforzato eh tanto a ad arrivare a definire una vera e propria eh divisione sessuale di genere eh in cui il lavoro precario caratterizza specialmente e soprattutto l'occupazione femminile. Eh al sud eh la partecipazione femminile al mercato del lavoro passa anche attraverso forme di flessibilità più precarie come l'utilizzo dei contratti di collaborazione e dove per le donne eh il tasso di lavoro al nero è e massimo. Eh negli anni duemila in Italia ancora il cinquanta per cento delle donne che entravano nel mercato del lavoro con contratti a tempo parziale restavano in questa condizione. Ora eh seppur con delle differenze eh sul peso che le donne eh hanno oggi all'interno del mercato del lavoro con quello che avevano negli anni cinquanta eh il paragone è utile per comprendere la posizione di subalternità strutturale eh della donna all'interno di questo sistema economico. Eh le similitudini riguardano il processo di quali qualificazione del eh del lavoro, le differenze salariali, la maggiore esposizione al licenziamento, similitudini che chiariscono quanto grande sia il trattamento discriminatorio che subiscono che subiscono le donne. Eh e non è un caso infatti eh che le prime eh lotte eh nella storia che hanno visto le donne protagoniste sono state anche e soprattutto lotte per la eh stabilizzazione del loro lavoro. Eh la loro eh stata ed è una lotta contro una società regressa che lavora in maniera estancabile per rimandare il momento della della piena libertà della donna. Eh le prime rivendicazioni per un lavoro stabile e qualificato sono state femminile e caratterizzarono proprio eh i primi anni sessanta per rispondere agli attacchi padronali degli degli anni precedenti. Eh e alla base di queste battaglie c'è proprio il riconoscimento della donna eh che l'emancipazione femminili passa eh passa anche per una lotta eh per una una lotta per il lavoro. Però la storia delle lotta eh della delle lotte delle donne non è qualcosa che riguarda una singola epoca eh una singola stagione di lotta ma è una storia che caratterizza tutto il movimento eh tutto il movimento operaio. Eh le lotte eh in cui le donne eh si eh si contraddistinguevano per resistenza e che erano molto spesso alla testa dei processi di eh di mobilitazione. Eh anche negli anni più recenti ci sono state mobilitazioni che sono andate in questa direzione verso la stabilizzazione del lavoro. Eh nei primi anni duemila eh le lavoratrici dei call center che sono tra le più sfruttate del mondo del lavoro hanno lottato contro il precariato eh che ed erano lotte molto importanti che avevano un altro un altro contenuto simbolico proprio perché eh demolivano la retorica che i padroni e i governi avevano costruito intorno alla flessibilità come strumento di incentivazione eh dell'occupazione. Eh mi riferisco ad alcune lotte come quelle della delle lavoratrici di Atesia, quella che ora si chiama Almaviva, che sono contraddistinte proprio eh tra il duemilacinco e il duemileotto con sciopere e mobilitazioni contro il precariato. Ci sono state migliaia di altre lavoratrici eh in aziende come la Tim o come Alitalia che hanno scioperato eh per le stesse ragioni. Ora il punto è che ogni volta che la donna si è mobilitata in particolare rispetto a quest'ultima ondata che prima descrivevo c'è stato un elemento ovvero che il sindacato si è eh si è stato colto impreparato. Eh le nuove condizioni di di produzione e l'espansione del settore dei servizi hanno significato un aumento del numero eh delle donne che lavoravano. Eh la grande maggioranza di queste non è organizzata all'interno dei sindacati. Eh sta a noi eh provare ad organizzare i non organizzati che è la prima vera necessità eh di questo tempo anche alla luce delle considerazioni che facevano i compagni rispetto alla profondità della crisi della crisi attuale. Eh su di noi ricade appunto la necessità di organizzarci come come lavoratrici, come sfruttate che rifiutano la condizione di subalternità che non è imposta da nessuna eh legge naturale se non dalla legge del profitto. Grazie. Grazie mille a Marzia. Eh eh adesso le do la parola a Irene Forno. Dopo eh darei la parola a Munza Escobar che leggerà eh l'appello eh l'appello del dei lavoratori, delle lavoratrici della Florenzi, dell'El Salvador e eh eh in modo che poi continuiamo a preparare i cartelli eh per la foto che faremo prima delle conclusioni di Margherita. Do la parola a Irene Forno. Ok. Mi sentite? Sì benissimo. Perfetto. Eh allora io sono Irene della sezione di Milano eh faccio parte del Nidil CGL e eh volevo concentrarmi su eh su un aspetto cercando di ricollegarmi anche agli interventi che mi hanno preceduto eh perché ci sono alcuni elementi che secondo me vale la pena sottolineare eh cioè il appunto il patto del dell'uscita delle donne dal dal mondo del lavoro. Eh l'aspetto in particolare su cui vorrei soffermarmi è eh sono le disposizioni legislative eh del duemila e uno che poi hanno subito delle modifiche nel duemila e dodici e duemila e quindici eh che sono le cosiddette eh in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità. eh che danno delle disposizioni in merito alle dimissioni volontarie eh per le lavoratrici. In realtà riguarderebbe anche i lavoratori ma poi entro nel merito eh più tardi. Eh le dimissioni volontarie entro l'anno di vita. Quindi quelle che vengono eh vendute come eh delle misure di sostegno alla famiglia, al diritto alla maternità, alla paternità, in realtà eh soprattutto adesso dopo eh più di dieci anni di crisi e a maggior ragione in una in una fase di pandemia eh in cui molto del peso è ricaduto sulle donne eh questo di fatto non sono delle misure a sostegno eh della della maternità ma sono eh di fatto un un accompagnamento alla porta eh per l'uscita dal mercato del lavoro eh per eh per le donne che eh che hanno figli sotto l'anno di vita. Eh e quindi viene da domandarsi se l'unica maniera per poter conciliare eh il lavoro e la famiglia sia quella di lasciare il lavoro. Eh nel merito di quelle che sono eh di quella che è la normativa per cercare poi di capire che cosa succede perché eh una donna viene portata eh di fatto a dimettersi eh dal proprio lavoro e eh e cosa succede dopo perché è lì poi il punto centrale. Eh i requisiti per poter eh avere diritto alla disoccupazione perché poi appunto è questo il fatto il fatto che dimettendosi la donna ha diritto alla NASPI. Per aver diritto alla NASPI bisogna avere almeno tredici settimane di contributi negli ultimi quattro anni e eh trenta giornate di lavoro nell'ultimo anno. Requisiti che generalmente una donna che ha avuto eh da poco un bambino generalmente eh riesce a eh a soddisfare. Eh si può dimettere senza l'obbligo di previso e eh ha diritto a settantacinque per cento della retribuzione media mensile eh dell'imponibile eh per i primi tre mesi e poi eh dal quarto mese questa indennità va a scalare del tre per cento ogni mese e ne ha diritto fino al cinquanta per cento dei mesi di contribuzione fino a un massimo due anni. Quindi vuol dire che se ha lavorato per quattro anni ha diritto a due anni di indennità che va a scalare, se ha lavorato cinque anni ha comunque diritto a due anni di indennità, se ha lavorato dieci, quindici anni, sempre due anni rimangono. Eh l'altra limitazione è eh il tetto massimo di questa eh di questa indennità di disoccupazione che non può essere superiore ai mille trecento euro. Quindi se ad esempio una donna guadagna eh millenovecento euro o più, che già qua fa ridere, eh ha comunque diritto a partire da un'indennità di mille trecento euro e vanno a scalare. Quindi nella migliore delle ipotesi in cui riesca a usufruire per due anni interi eh di eh di questo congedo eh alla fine dei due anni si trova con eh un'indennità di eh seicento, settecento euro eh mensili. Quando invece andiamo a pensare a quello che è il salario medio di una donna, si è già parlato del del gap salariale tra uomini e donne eh si va a vedere che l'indennità andando a scalare diventa sempre più esigua da partendo dai mille euro mensili, se pensiamo a uno stipendio di mille duecento euro ehm fino ad arrivare a cinquecento euro mensili. Ehm quindi ehm il punto fondamentale qual è? Eh che viene data ehm appunto la l'opportunità eh di eh dedicarsi alla famiglia ma in realtà eh la realtà è che poi le donne una volta uscite dal mondo del lavoro difficilmente riescono a rientrare. Eh ci sono dei dati molto interessanti pubblicati dall'ispettorato del lavoro eh che danno una fotografia di questo fenomeno. Dal 2011 al 2019 c'è stata un'impennata di queste dimissioni. Eh sì le dimissioni sono raggruppate tutte insieme però andando a vedere eh eh le fasce di età, il sesso e le ragioni perché da questa indagine ci sono anche le ragioni per le dimissioni eh si evince eh chiaramente quali sono le motivazioni delle dimissioni e che hanno riguardato. Quindi se partiti dati antecedenti purtroppo non li ho trovati da diciassettemila dimissioni nel 2011 fino a cinquantunomila nel 2019 e credo che i dati del 2020 quando saranno disponibili eh saranno decisamente allarmanti. E di e di e di queste dimissioni eh la stragrande maggioranza è composta da donne. Gli uomini hanno utilizzato questa eh questa possibilità perché gli uomini non hanno diritto alla NASPI perché per aver diritto alla NASPI bisogna aver usufruito del congedo obbligatorio e gli uomini usufruiscono generalmente del congedo obbligatorio quando eh o o in caso di decesso o grave malattia della madre o eh per affido esclusivo dei figli. Ehm quindi per la maggior parte donne settantacinque per cento nella fascia di età ventinove quarantaquattro anni e il cinquantatré per cento di queste ha dichiarato che hanno eh chiesto le dimissioni perché non riuscivano a conciliare lavoro e famiglia. una fetta eh di di queste dimissioni sono eh dovute a eh alla necessità alla volontà di cambiare lavoro e però non non sappiamo non riusciamo non 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 il dato non è legato al genere però è evidente che eh la maggior parte di questi saranno stati uomini e non ho trovato un dato e credo che la ragione eh sia evidente eh un dato di quello che succede dopo queste dimissioni cioè quante delle donne che hanno chiesto le dimissioni eh per prendersi cura della famiglia eh dopo terminati due anni di naspi quante di queste sono rientrate nel mercato di lavoro? ho trovato un dato solo relativo alla provincia di Bolzano che dice che dopo tre anni solo il cinquanta per cento è riuscito a trovare un lavoro e non mi stupirei se il dato per il resto dell'Italia fosse simile ehm a questo eh e ehm le ragioni per cui chi non riusciva a eh conciliare lavoro e famiglia eh le ragioni delle dimissioni erano l'assenza di supporto da parte di ehm di familiari per appunto per la cura dei figli costi eccessivi per il nido eh per il babysitting di cui si è parlato poco fa eh o il mancato accoglimento del proprio figlio eh al nido eh credo che sia evidente che ehm per quanto appunto eh una donna madre abbia eh piacere a stare con i propri figli chiunque abbia fatto l'esperienza mistica di passare ventiquattro ore su ventiquattro sette giorni su sette trecentosessantacinque giorni l'anno con dei bambini piccoli converrà con me che è molto più riposante andare al lavoro quindi eh credo che eh questa non sia una reale eh misura di sostegno alla maternità ma sia appunto come dicevo prima un accompagnamento delle donne eh verso l'uscita dal dal mondo del lavoro e eh siamo in un in un periodo in cui uno stipendio non basta più e quindi se si deve scegliere all'interno di una famiglia di sacrificare uno dei due stipendi si sacrifica quello della donna perché abbiamo già eh si è già parlato prima della differenza salariale eh tra uomini e donne e eh il fatto che poi eh ci sia una grande difficoltà per le donne a rientrare nel nel mondo del lavoro non entro perché ho terminato il tempo su ehm eh sulla questione dello smart working con i figli a casa e questo più che riguardare i bambini sotto l'anno riguarda chi ha figli in età scolare e ehm e la questione dei congedi covid quindi una situazione che si sta andando ad aggravare ancora di più e eh credo che quello per cui noi dobbiamo lottare è eh il fatto di eh di avere un diritto a poter vivere la maternità senza discriminazioni dal momento in cui c'è il test di gravidanza positivo fino a quando eh i figli eh crescono e sono indipendenti perché abbiamo visto e vedremo immagini anche negli altri interventi che le discriminazioni purtroppo nel mondo del lavoro sono eh sono costanti quindi eh lottare perché le donne possano avere eh un reale eh diritto al al lavoro e chiudo grazie grazie mille a Irene eh adesso prima di passare la parola a eh Munza Escobar che eh leggerà appunto l'appello eh dei lavoratori della Florenzi dell'El Salvador volevo leggere la lista degli interventi degli interventi che ci sono eh segnati eh comunico che appunto la ehm possibilità di intervenire eh eh è chiusa in questo modo però eh si può sempre chiedere eh di ehm leggere un intervento eh scritto sulla chat o porre delle domande che poi verranno girate alla ehm a eh Margherita ehm io prima di passare la parola a Munza volevo leggere la lista degli interventi in modo che se mi è scappato qualcuno potete eventualmente segnalarmelo allora dopo Munza interverrò io poi c'è Serenella Ricci, Mario Iavazzi, Alice Genco, Gemma Banducci, Gianpracido Ottaviano, Samira Haji, Laura Minadeo, Massimo Pieri, Federica Carasi, Davide Fiorini. Se c'è qualcuno che ho dimenticato potete segnalarmelo in privato. Do la parola a Munza. Ok, intanto un saluto a tutti i partecipanti a questo convegno. Eh passo subito a leggere un ordine del giorno in solidarietà con la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori dell'industria Florenzi del Salvador. Il primo luglio duemilaventi, otto mesi fa, centonovantasei donne e quattordici uomini dell'industria Florenzi sono stati licenziati senza essere pagati per i mesi di lavoro di marzo, aprile, maggio e giugno, periodo in cui sono stati posti in isolamento obbligatorio. Il credito che le lavoratrici e i lavoratori vantano dalla proprietà ammonta a mezzo milione di dollari. Per ottenerli, a partire dalla fine dello scorso luglio, hanno lanciato una lotta che li ha giustamente condotti ad occupare l'impianto della fabbrica come garanzia del proprio pagamento. L'8 gennaio, come ultima risorsa per fare pressione sullo Stato, è iniziato uno sciopero della fame a tempo indeterminato. Le condizioni di salute delle scioperanti si complicano nel tempo, ma nonostante ciò le autorità rifiutano di accelerare il percorso verso la soluzione dell'avvertenza a favore delle richieste dei lavoratori, dimostrando l'intenzione di proteggere i capitalisti prima della classe operaia. È l'ennesimo esempio del ruolo che assume lo Stato borghese nel capitalismo. Riteniamo che non sia più rinviabile una pronta risposta dalle autorità competenti per garantire il sacrosanto diritto delle lavoratrici e dei lavoratori della Florenzi ad ottenere ciò che aspetta loro. Come sostiene la campagna lanciata dal Blocco Popolare Juvenile e dal Sindicato Salvadoregno di Industria Textile similares, alla quale aderiamo convintamente, la risposta necessaria dovrebbe essere l'espropriazione e la nazionalizzazione dell'industria Florenzi sotto il controllo e l'administrazione da parte dei lavoratori. Libere di lottare il convegno marxista sulla condizione femminile, convocato da sinistra classe rivoluzione sezione italiana della tendenza marxista internazionale, riunitosi il 6-7 marzo 2021, che ha visto la partecipazione di centinaia di lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti, sostiene tutte le azioni di lotta delle lavoratrici della Florenzi, compresa l'eventuale autogestione della fabbrica e la ripresa della produzione sotto controllo operaio in un'ottica di solidarietà internazionalista, ma anche con la consapevolezza che ogni conquista delle lavoratrici e dei lavoratori in lotta è una tappa verso la messa in discussione del potere della classe dominante e l'emancipazione delle donne e di tutta la classe lavoratrice. Grazie mille a Munza, io vi faccio l'appello per preparare questi cartelli Solidaridad con la Sobreras Florenzi. Faremo questa foto per chi vuole chiaramente partecipare prima delle conclusioni di Margherita Colella. Adesso prendo la parola io per un intervento e dopo si prepara Serenella Ricci. Dunque, io sono Francesca Esposito, non mi sono presentata all'inizio, sono una lavoratrice di ATM, la società di trasporti a Milano e volevo concentrare il mio intervento su una tematica che è stata toccata sia dalla relazione che da alcuni interventi che mi hanno preceduto rispetto a cosa significhi appunto essere lavoratrice, madre, donna e avere anche magari delle difficoltà quando si è madre single e quanto appunto poi le organizzazioni che fanno delle battaglie a chi la dice più lunga rispetto alla tutela diciamo di queste situazioni e poi alla fine si riducono ad essere delle mere, dei meri proclami diciamo con pochi e sostanziali fatti. Noi sappiamo benissimo che ovunque giriamo gli occhi troviamo di tutto a livello globale, europeo, nazionale in tutti i partiti politici e sindacati troviamo questi gruppi, comitati, collettivi e quant'altro di donne che puntualmente offrono analisi e statistiche sulle condizioni di disparità tra l'universo femminile e quello maschile e esistono poi anche tutta un'altra serie di organizzazioni, di associazioni e gruppi che nascono dal basso come Nuna Menos in America Latina che ha avuto una eco globale e che tratta appunto di movimenti che riescono ad avanzare anche delle proposte, delle lotte, delle battaglie per i diritti civili come appunto questa organizzazione ha fatto per ottenere delle vere e proprie conquiste come è stata per esempio l'ultima legalizzazione dell'aborto in Argentina frutto proprio di queste battaglie e ci sono anche poi delle donne che lavoratrici che all'interno dei propri luoghi di lavoro non trovando alcuna sponda sindacale decidono di auto organizzarsi. Quindi capiamo che se c'è tutto questo questa miriade di organizzazioni in ogni settore in ogni ambito effettivamente il problema è sentito eh il di questo problema se ne parla tanto eh e se si continua a eh vedere delle cifre assurde di come appunto le percentuali di ehm di discriminazione di licenziamenti di eh sopprusi appunto sono ricadono eh in maggioranza sulle spalle delle donne e perché effettivamente eh le soluzioni poi alla fine che si trovano sono eh abbastanza ancora eh poche e irrisorie. E eh come abbiamo spiegato appunto il limite eh anche questa mattina nella discussione il limite di tantissime organizzazioni appunto che partono dall'ONU e finiscono nelle camere di lavoro della CGL eh e che appunto queste tutte queste passo partono da eh delle premesse sbagliate su quella che è l'origine dell'oppressione femminile. Quindi non attuano una vera e propria scelta eh di eh lottare come classe ben definita e distinta da quella borghese da quella padronale restando quindi intrappolate all'interno di un contesto legalitario moderato e eh riformatore. E quindi assistiamo spesso a delle grossissime intenzioni in CGL si parla della della contrattazione di genere che diventa contrattazione inclusiva passando per una battaglia delle parole e che spesso però fa venire da una parte il mal di testa a eh comprendere appunto tutto questo meccanismo e dall'altra appunto per nulla risponde alle reali esigenze eh delle donne appunto sfruttate e discriminate nei luoghi di lavoro. Ehm spesso abbiamo anche assistito a delle vere e proprie guerre eh che si innescano in queste organizzazioni eh fondamentalmente per accaparrarsi dei posti di controllo come non so chi ha riuscito a seguire qualcosa ehm nell'ultimo convegno che c'è stato delle donne del PD dove c'erano tantissime donne anche della CGL eh per eh i posti di comando che non le non sono stati assegnati loro all'interno del nuovo governo. Ora io eh in ATM dove dove lavoro ehm sono stata protagonista insieme ad altre lavoratrici di un tentativo di creare eh in un'azienda con novemila e cinquecento circa lavoratori eh con una grandissima prevalenza maschile ehm si calcolano appunto solo l'otto per cento di eh lavoratrici donne in questa in questa azienda e appunto dicevo protagonista di della creazione della eh nascita di un collettivo di donne eh iscritte tutte alla CGL e anche riconosciute tra i lavoratori in quanto delegati oppure membri del del direttivo Filt e eh un gruppo donne che voleva affrontare appunto delle tematiche scottanti in un'azienda dove ben si può immaginare eh un'altissima appunto eh presenza con un'altissima presenza maschile le tematiche delle donne appunto eh vengono e vengono appunto letteralmente accantonate eh e dove le donne eh sono per lo più sfruttate eh per mansioni di bassissimo livello. Eh abbiamo toccato con un volantino delle tematiche che poi sono quelle che rientrano purtroppo nelle più nere statistiche del della questione femminile che sono le molestie nei luoghi di lavoro mh a livello nazionale si conta una su dieci che nei luoghi di lavoro viene molestata probabilmente in ATM dove lavoro io purtroppo questa percentuale sale visto eh appunto la quantità eh irrisoria di donne e dove appunto eh ehm bassa è la forza diciamo contrattuale delle donne rispetto a questa a questa tematica piuttosto che altre problematiche come appunto il mobbing da maternità eh esistente anche in questa azienda ehm piuttosto che le condizioni igieniche per eh le donne che lavorano sui mezzi pubblici o nelle metropolitane e e che si vedono negato il diritto basilare di avere un bagno dove andare a fare i bisogni denunciando quindi delle vere e proprie conseguenze eh a livello fisico sanitario e ehm di natura appunto eh di vere e proprie appunto malattie che si eh che si che si creano per questo tipo di eh problema cioè conducenti per esempio che per tutto il turno di lavoro non vanno in bagno proprio per assenza di bagni eh dei capolinea piuttosto che eh in luoghi dove appunto fanno fanno le soste. Ora dopo un confronto con eh i delegati e gli attivisti eh dove è stata condivisa eh in larga parte questa eh tematica questa problematica e dove anche alcuni delegati hanno sostenuto eh diciamo eh con degli altri esempi appunto le problematiche che esistono tra le donne in ATM eh ci siamo viste eh diciamo a due giorni dalla presentazione del volantino che doveva essere come presentazione appunto la data simbolica dell'otto di eh di marzo il taglio censorio della eh segreteria della CGL, della FILT eh su delle tematiche eh importanti imprescindibili appunto come era la questione del maschilismo toccato in questo volantino e del mobbing da maternità. Eh uno perché probabilmente non viene riconosciuto che esiste, il secondo per non avere eh ripercussioni legali con l'azienda. Ehm e poi tutta una serie di tagli sulle parole d'ordine forti che avevamo inserito in questo volantino per combattere appunto queste eh diseguaglianze. Siamo qui eh perché faccio questo questo diciamo questo racconto perché credo che siamo qui nell'esempio proprio plastico di cosa voglia dire eh un'organizzazione enorme come la CGL che ha tra i valori e i cavalli di battaglia la lotta per la priorità di genere eh a parole e che invece nei fatti nega in un'azienda quasi totalmente maschile eh e con l'esistenza appunto di grosse problematiche specificamente femminili la possibilità a delle compagnie di organizzarsi per difendere eh i propri diritti. E credo che dia anche la misura di quanto dura sia la battaglia che le donne lavoratrici devono affrontare non soltanto nei luoghi di lavoro contro i padroni ma anche all'interno eh delle proprie organizzazioni sindacali. Eh ho finito anche io il mio tempo ehm volevo concludere appunto anche su eh un'altra tematica che eh è stata eh inserita anche nei link eh nella chat che è l'ennesima occasione che eh la CGL ha perso eh con la giornata dell'otto marzo non aderendo alla eh giornata mondiale di mobilitazione proposta dall'organizzazione eh non una di meno eh dando appunto delle indicazioni se non vaghe eh assolutamente nulle rispetto a eh la possibilità appunto di aderire a questo tipo di mobilitazione. La CGL si limiterà in questa giornata dell'otto marzo ad un convegno con CISL e WILL eh e un convegno online dal titolo il secondo alfabeto delle donne battaglia da combattere anche con le parole e eh appunto eh credo che questo appunto dia la misura introdurrà Tiziano Treo dia dia la misura appunto di quanto abissale sia il eh la distanza tra i problemi reali scottanti concreti delle donne oggi e quanto appunto eh difficile sia eh la battaglia diciamo all'interno dell'organizzazione che dovrebbe difendere questi 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 problemi eh per appunto eh far prevalere diciamo le proprie istanze. Ho finito il mio tempo ehm quindi passo la parola a eh Serenella Ricci. Eh un attimo di problemi con la riattivazione dell'audio di Serenella. Ok. Ok ci siamo. Allora io penso che volevo iniziare più che altro con una riflessione anche rispetto alla fase attualissima eh la pandemia sicuramente ha spezzato eh un equilibrio che già prima era molto fragile tra i lavoratori e le lavoratrici eh ovviamente un risultato di tutta una serie di attacchi eh che si fanno ormai da decenni eh quindi erosione appunto delle varie come dire diritti dei vari contratti e dove appunto in pandemia di fatto ha spezzato appunto questo equilibrio. Ormai io penso che in questa situazione anche come si diceva prima anche dove eh una persona non solo bisogna difendere ovviamente quelle che sono le leggi anche rispetto all'aborto dove domani avremo appunto anche una sessione dedicata a questo ma eh il problema è che bisogna giustamente anche come si diceva prima fare i conti invece anche eh quando per esempio una donna vuole eh chiaramente un figlio eh e chi bisogna fare rendere conto eh sempre anche ehm con che eh come dire in che situazione eh poi ovviamente si va si deve mantenere eh questi figli. Rispetto eh allo smart working eh che sicuramente è una forma di eh totale alienazione e eh che toglie quelle che sono appunto tutti i rapporti sociali che si possono avere eh con eh i colleghi eh io per esempio lavoro in un call center eh dove ehm spesso anche in passato eh le lavoratrici ovviamente il 90% sono tutte donne e sono quasi tutte mamme eh ovviamente chiedono eh lo smart working come diceva Laura eh c'è però quello che vedo io è che purtroppo eh lo chiedono eh lo chiedono non come soluzione assoluta eh ma semplicemente per alleggerire magari gli orari di lavoro perché di fatto eh chiedono lo smart perché manca tutto il resto eh rispetto appunto alla gestione ehm dei figli. Anche Margherita prima lo diceva eh nel suo intervento eh il congedo parentale è pagato al 30% eh il i mesi di maternità obbligatoria sono cinque due prima se si vuole e tre dopo questo vuol dire che di fatto una donna dovrebbe tornare a lavorare dopo l'obbligatoria al terzo mese di vita del bambino oppure la malattia del bambino che è eh non retribuita con giorni illimitati fino a tre anni poi a un certo punto non si capisce perché a tre anni il bambino diventa maggiorenne e quindi di fatto si deve curare da solo perché dopo i tre anni ci sono solo cinque giorni fino agli otto anni sempre non retribuiti cinque giorni all'anno quindi di fatto questo è un problema nella gestione appunto dei bambini eh con le malattie quindi figuriamoci anche in una situazione di pandemia come questa dove ti lasciano il bambino a casa giustamente eh anche per un raffreddore o per una tosse. Ieri a Milano io eh a Milano eh sinistra classe rivoluzione abbiamo partecipato a eh un una un presidio che era che è stato fatto appunto ehm subito eh per rispondere di fatto all'attacco della chiusura eh di tutti i gradi eh scolastici dalla materna fino fino a di fatto anche anche con la materna e anche con elementari quindi solo in nido se non si diventa zona rossa eh e la piazza era gremita chi è che era presente non erano presenti solo insegnanti erano i presenti donne ma soprattutto mamme eh perché 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 la comunicazione della chiusura per due settimane consecutive è arrivata a due ore prima della chiusura dei cancelli della fine giornata scolastica e quindi la gestione dei bambini nei prossimi quindici giorni viene di fatto ehm viene di fatto appunto eh ricade totalmente eh all'improvviso ovviamente sulle sulle mamme ehm tra l'altro eh con una chiusura noi sappiamo che è di esattamente un anno fa che eh almeno in Lombardia eh hanno chiuso tutto c'è una differenza rispetto alla prima emergenza che a questo giro non ci sono congedi parentali perché è vero che adesso forse ne stanno discutendo però bisogna fare ovviamente io penso che non sono non è così scontato che questi congedi parentali sia possibile usufruirne perché perché anche in caso di ehm chiusura della classe eh per ehm per covid quindi per quarantena eh di di chiusura perché ci sono dei dei casi all'interno della classe se una persona lavora in smart working avere il congedo parentale per covid non è possibile che poi sarebbe quello pagato al cinquanta per cento quindi sinceramente anche in questa in questa emergenza in questa chiusura io non sono così sicura che eh effettivamente per chi lavora in smart working abbia effettivamente poi diritto a queste eh a questi congedi ehm comunque anche quindi siamo in una situazione in cui chi lavora in smart working si trova di fatto a casa i figli e chi invece deve andare a lavorare si deve prendere i permessi propri per quindici giorni dove sappiamo quando chiudono ma non sappiamo quando riaprono perché non è detto che il quattordici riaprono data bisogna vedere poi la curva chiaramente dei contagi e quindi appunto questo ehm è un problema eh tra l'altro mh è un problema perché eh è vero che c'è il blocco dei licenziamenti però eh chiaramente non si bloccano quelli che sono i contratti in scadenza oppure per esempio le finte partite IVA quindi purtroppo anche questa cosa del blocco dei licenziamenti durante il periodo di covid come dire non sempre eh e non è detto che sia una tutela comunque del posto di lavoro anzi ieri ho parlato con due mamme a questo presidio che io spero che partecipano partecipino a questo convegno che siano riuscite a collegarsi o che lo faranno domani perché giustamente una di loro mi diceva tu mi chiudi la scuola due ore prima rispetto alla chiusura dei cancelli però io per fare uno sciopero devo tu pretendi padrone che io ti avverti tre settimane prima eh quindi questo era come dire il ehm l'aria che si respirava e io per esempio mi avverti due ore prima della chiusura dei cancelli ehm e e della chiusura e mi lasci ovviamente a dover gestire i prossimi quindici giorni eh così all'improvviso eh quando per avere un'ora di permesso un'ora di permesso io devo avvertire l'azienda quarantotto ore prima e ovviamente questo deve essere approvato eh in base alle esigenze aziendali quindi non sono obbligati a darmi questa ora di permesso ora io penso che in questa eh come dire ci si rende conto che anche nella prima emergenza sono stati fatti tanti sacrifici eh che questi sacrifici però non sono serviti di fatto a niente e quindi secondo me c'è la coscienza tra le donne e tra le lavoratrici che si faranno ulteriori sacrifici che non serviranno a niente a questo giro ehm e penso che appunto come dicevo prima la pandemia ha spezzato sicuramente eh un equilibrio già precario eh che è un equilibrio che era rappresentato appunto da decenni di tagli ehm e non solo eh di attacchi ovviamente all'istruzione attacchi alla sanità ma anche attacchi allo stato sociale eh e eh ai diritti dei lavoratori e eh come dire adesso è facile fare una retorica eh rispetto ehm alle carriere delle donne che appunto non può che vogliono diventare eh come dire il successo della vita fare carriera in un'azienda qui il problema però non si tratta di carriera qui il problema è che in questa situazione si rischia il posto di lavoro altro che carriera eh quindi eh diciamo che le persone normali eh che semplicemente cercano di ehm come dire andare avanti eh purtroppo appunto devono fare i conti con queste condizioni quando si hanno i figli ehm io penso che questo convegno sia per noi eh fondamentale anche rispetto a mh alla sessione che abbiamo avuto questa mattina nel senso che chiaramente noi per la teoria eh quando discutiamo di teoria e anche per comprendere quelle che è la realtà che noi viviamo giornalmente eh e come appunto cerchiamo di eh cambiarlo eh e di cambiare appunto il eh una parte come dire pratica per dover cambiare eh le nostre condizioni ehm io penso che eh non possono più raccontarci la retorica dell'andrà tutto bene perché questa volta non funzionerà eh e penso che questo convegno per noi è fondamentale perché veramente anche per noi è sicuramente un passo importante e chiudo ehm per eh per veramente trasformare la società e basta. Grazie Serenella eh passo la parola a Mario Iavazzi del direttivo nazionale CGL e eh coordinatore dell'area di alternativa in CGL le giornate di marzo. Ok. Eh sì grazie e buonasera a tutte e tutti. Eh nella eccellente relazione di Margherita Collella sono stati forniti tutta una serie di dati eh che rappresentano molto bene il peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle donne in Italia. E il dato sulla perdita dei posti di lavoro che ci forniva Margherita eh dice davvero tutto. Tra l'altro quei dati sono dati che fondamentalmente rappresentano il saldo tra le entrate nel mondo del lavoro e le espulsioni e le cessazioni. Eh i 444.000 posti di lavoro in meno in realtà sono davvero molti di più i cessati eh una cifra attorno ai 7800.000 posti di lavoro persi e ovviamente diciamo i nuovi assunti sono nuovi assunti con contratti precari. E perché eh questo nonostante il blocco di licenziamenti eh questo numero così alto di posti di lavoro persi ricadono sulle donne? Perché fondamentalmente sono il risultato di due eh meccanismi e cioè l'espulsione dei precari tutti coloro che non avevano eh che avevano rapporti di lavoro non a tempo indeterminato sostanzialmente sono stati posti fuori dai posti di lavoro e le dimissioni volontarie che eh in entrambi i casi hanno colpito in particolare le donne. Questa discussione, questi dati sono l'esempio concreto di come le questioni sono assolutamente collegate rispetto per esempio alla discussione che si faceva questa mattina. Eh e ehm che dimostra appunto una difficoltà o addirittura un'impossibilità eh a conciliare la vita e il lavoro. Eh a proposito delle cose che diceva chi intervenuto prima di me eh anche rispetto alla richiesta di lavoro da remoto o di smart working in queste condizioni di fatto è diventata una necessità eh per molte donne nonostante la consapevolezza di tutto ciò che le compagnie e i compagni dicevano rispetto al lavoro da remoto provo perché eh diciamo rende molto nonostante renda molto complicata e praticamente impossibile la la conciliare il lavoro anche da anche da casa con la gestione della vita familiare però di fatto eh diventa a volte l'unica soluzione. Ehm eh Serenella mi ha presentato come il coordinatore di un'area di alternativa in CGL eh l'area giornate di marzo è un'area nata da otto mesi di fatto quindi molto giovane eh e ci stiamo ponendo appunto l'obiettivo di sviluppare eh un metodo, un programma eh una risposta diciamo diversa e alternativa al al gruppo dirigente della CGL e alla alla sua maggioranza. Eh una discussione che ha visto le molte compagne e le compagne giocare un ruolo di primo piano in questa eh dinamica appunto di lancio di questa nuova di questa nuova area e io credo che questo convegno libera di luttare eh diciamo ci dia la possibilità di approfondire ulteriormente il nostro programma rivolto alle lavoratrici. Noi abbiamo eh diciamo lanciato un programma attorno a alla nascita appunto di quest'area eh e eh credo appunto che quello che sta emergendo, quello che proponeva Margherita nella relazione e eh quello che ascolteremo in questi interventi diciamo eh ci darà ulteriori elementi per sviluppare ed approfondire quella quella piattaforma a partire dallo smart working a tutta una serie di questioni che stanno emergendo. E uno ha degli aspetti su cui ci siamo concentrati in queste giornate appunto eh l'elaborazione di un comunicato eh polemico nei confronti della CGL rispetto allo sciopero dell'otto marzo o meglio rispetto al non sciopero dell'otto marzo. Perché guardate eh in realtà alcune questioni che si discutono anche qui eh sono di patrimonio anche della CGL in particolare rispetto alle denunce no? Eh la denuncia sul dato dello sull'occupazione femminile, le differenze retributive, la violenza di genere, il fatto che stanno calpestando i diritti ma poi ogni anno la CGL volta alle spalle all'appello internazionale che è stato posto ormai già da diversi anni rispetto appunto alla necessità di mettere in campo uno sciopero generale eh appunto attorno a questa giornata per far sì che questa giornata da giornata di festa come veniva definita anni fa diventi una giornata eh una giornata di lotta e quindi anche quest'anno la cosa che ha fatto è fare un comunicato in cui copre eh le dirigenti, le delegate della della organizzazione eh che volessero far sciopero e in realtà appunto è un approccio assolutamente burocratico che appunto non si pone l'obiettivo invece di mettere in campo una lotta e di dare una risposta a quelle denunce che pure a volte fa la CGL. Per questo l'abbiamo definite le lacrime di coccodrillo perché non ci si può solo lamentare ma bisogna anche mettere in campo un'azione e se non lo fa la principale organizzazione sindacale del paese non si capisce eh chi lo debba fare. Del resto eh noi abbiamo comunque una polemica aperta anche nei confronti di chi lo sciopero lo ha proclamato eh perché in effetti anche quello uno sciopero proclamato con un approccio di dare copertura, un approccio burocratico appunto e chi ha proclamato lo sciopero non fa assemblee nei luoghi di lavoro, nessuna campagna, non sviluppa un interesse appunto eh per far sì che quello sciopero eh riesca e di fatto non la vedono una priorità sviluppare una campagna tra le lavoratrici e lavoratori perché quello sciopero riesca e io aggiungo francamente nemmeno potrebbero essere in grado di farlo visto la scarsa forza che hanno proprio per l'approccio che hanno nei confronti della maggioranza dei lavoratori che ancora eh inevitabilmente a guardare ancora le organizzazioni eh sindacali confederali. In realtà il punto in comune che tutti hanno è la mancanza di fiducia nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori sulla loro capacità di lottare ed incidere. Un'idea per cui si può difendere i diritti incidendo nella discussione sui tavoli con le controparti senza mai tenere conto dei rapporti di forza e senza costruirli. In altre parole chi non lotta dice che non ci sono le condizioni per lottare invece chi lotta lo fa solo formalmente senza porsi l'obiettivo di creare le condizioni perché quelle lotte siano efficaci e quindi oggi siamo in queste condizioni che spiegavano gli interventi precedenti della relazione cioè un peggioramento generale in termini di diritti. Ora guardate noi in Italia non abbiamo una legislazione particolarmente avanzata sui diritti anche se alcuni diritti comunque sulla carta ci sono. Il punto è questo lo spiegavano molto bene le compagnie prima c'è una distanza abissale tra ciò che è scritto nelle le leggi e la realtà. C'è una distanza abissale tra ciò che c'è scritto persino nella Costituzione italiana che peraltro la stessa Costituzione poi si smentisce quando dà la libertà d'impresa e quindi di fare mercato e quindi di sottoporsi alle leggi del mercato e poi appunto la realtà concreta nei posti di lavoro e nella vita quotidiana e questo non è nient'altro che il capitalismo. Guardate ne cito solo alcuni che sono poi argomenti che sono emersi in tutta questa discussione. La parità di trattamento economico e di condizione questa è scritta nella legge. Eppure Margherita forniva i dati rispetto alla differenza che c'è in busta paga e nelle buste paga degli uomini con quella delle donne. Io avevo letto dei dati molto più alti di quelle che forniva Margherita una differenza del 23 per cento dei salari ma questo è determinato appunto da come la da come la vedi quindi probabilmente sono corretti i dati che dava Margherita e quelli che sto dicendo io perché poi alla fine in ultima stanza il salario si compone di diverse voci. Per esempio dipende appunto da eh il part time e su questo da e da chi e da quanti hanno il part time a seconda del genere e questo è un argomento che Margherita approfondita ma dipende anche dagli inquadramenti professionali. Molto spesso le lavoratrici hanno inquadramenti professionali molto più basse e quindi alla fine diciamo automaticamente hanno dei salari più bassi. Dipende anche da tutta una serie di politiche che il sindacato fa nella contrattazione aziendale per esempio è legare parti di salari accessori, famosi premi di produttività, premi di risultato collegati alla presenza e questo colpisce il diritto alla maternità. A proposito di diritto alla maternità un altro diritto che sarebbe diciamo previsto dalla norma però poi tutti gli interventi precedenti hanno affermato e dimostrato quanto in realtà nella nella realtà non sia poi sempre così. E potrei andare avanti giù con altri esempi. Nel 2001 per esempio nella legge citata da Irene prima si parlava e è stato inserito il congedo di paternità. Era stata salutata in quella epoca come una grande conquista per il cambiamento culturale rispetto alla parità di genere ma a distanza di 20 anni abbiamo visto che tutto questo non è non è servito. E allora e questo è l'ultimo punto che volevo toccare nel mio intervento questo è uno degli aspetti che dimostra quanto veniva detto stamattina e cioè che il separatismo è nocivo e in realtà aiuta la classe dominante ma io la metto anche su un altro piano per spiegare il perché il separatismo è nocivo perché come dimostra la storia le più grandi conquiste delle donne sono state ottenute grazie allo sviluppo e all'ampiezza del movimento di massa e della classe lavoratrice tutta. la crescita dei salari delle donne, i passi verso una scuola e l'università pubblica di massa, l'istituzione dei nini, il diritto al divorzio, il diritto all'aborto, lo stesso servizio sanitario nazionale, insomma sono tutte conquiste determinate delle lotte del 68-69, tutte conquiste portate e ottenute grazie alle lotte del movimento operaio e io penso che le lavoratrici saranno la parte più avanzata delle prossime lotte perché le lavoratrici saranno e sono ancora le più colpite a proposito del blocco dei licenziamenti si sta discutendo e qui termino il mio intervento si sta discutendo rispetto all'ipotesi di un rinvio al 30 giugno quella ipotesi di rinvio ammesso che sarà un rinvio di un blocco vero perché il padronato sta provando diciamo a fare una cosa diversa. Sono anche risultato di una paura che il padronato è in Italia che si sviluppi un movimento di massa in risposta alla catastrofe sociale e tutto questo quindi ci porta ad affermare una cosa che ogni diritto conquistato è un diritto che non rimane scritto sulla pietra e che ogni conquista è soggetta diciamo a una revisione da parte della classe dominante nella misura in cui cambiano i rapporti di forza la società. Per questo questa discussione fa capire ancora di più quanto sia importante il lavoro di costruzione di un'organizzazione rivoluzionaria che si ponga l'obiettivo di stare a fianco a chi lotta di dare il proprio contributo e di alzare il livello di coscienza e porre alle lavoratrici e ai lavoratori un programma di trasformazione sociale anticapitalista affinché l'emancipazione della donna possa essere una vera realtà e non soltanto diciamo una discussione eh accademica che non è il compito nostro non è quello che vogliamo e grazie. Ok scusate c'è un problema di video ok eccoci qua allora grazie Mario e adesso darei la parola ad Alice Genco si prepara Gemma Banducci mi sentite? Forte e chiaro. Ok perfetto eh ciao a tutti compagni io sono Alice e faccio parte della sezione di crema e vi volevo parlare eh di quelle che sono un po' le di quella che è la situazione appunto nel cremasco delle lavoratrici interinali nel settore della cosmetica. Allora eh diciamo che dopo la crisi del duemila e otto nel cremasco che diciamo che quella zona eh della pianura padana immersa nei campi tra Cremona e Milano eh ha assistito a quello che è stato proprio il boom del dell'industria cosmetica no? Sì andiamo dalla produzione al packaging al riempimento al confezionamento. Eh diciamo che sul nostro territorio coesistono tante realtà diverse quindi eh sia la grande multinazionale cosmetica che si occupa magari di tutti i vari processi produttivi appunto del make up eh tanto quanto la piccola aziendina a gestione familiare con magari dieci quindici eh dipendenti lavoratori lavoratrici che si occupa ma principalmente eh di quello che è il confezionamento in conto terzi. Eh allora stando alle parole del presidente del polo tecnologico della Cosmesi eh Moretti il 65% del make up di tutto il mondo e di tutti i grandi marchi internazionali cioè pensiamo a Dior, Chanel, L'Oreal, Lancome, tutti questi grandi nomoni nasce appunto nel distretto lombardo che va che è tra crema Milano, Bergamo e Labrianza. Eh ed è appunto in questo quadrilatero diciamo che si eh concentra quella che è eh la maggior parte dei terzisti italiani, no? Ehm questo polo tecnologico della Cosmesi è un'associazione che raccoglie tutte quelle aziende lombarde che secondo determinati standard qualitativi eh rappresenterebbero in teoria il meglio dell'intera dell'intera filiera del mercato cosmetico e del make up. Allora eh questo polo raggruppa all'incirca settanta aziende e queste settanta aziende hanno un fatturato aggregato di circa settecento milioni di euro annui eh e più di duemila ottocento addetti e stiamo parlando delle persone effettivamente assunte eh senza considerare tutti le appunto i lavoratori e le lavoratrici interinali, le cooperative, l'indotto eccetera. Eh e quindi questi sono i dati solo relativi alle aziende effettivamente iscritte a a questo polo e senza considerare tutta eh tutte quelle aziende che non sono non sono iscritte. Eh io ho lavorato per circa tre anni in questo settore, ho avuto un'esperienza di circa tre anni da lavoratrice interinale eh nella cosmetica appunto e in questo contesto che è appunto ricco di aziende di questo genere eh e ho avuto la possibilità di conoscere diciamo diverse realtà un po' in tutta la la filiera produttiva eh ho lavorato sia in grandi multinazionali, ho lavorato in piccole aziende eh che artigiane, ho fatto un po' di tutto diciamo in questi in questi anni. Allora diciamo che ehm in que in queste aziende la presenza femminile è una costante quindi ehm la 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 maggior parte delle lavoratrici dei lavoratori sono effettivamente donne all'interno di questa azienda ma la loro assunzione è molto spesso anzi nella maggior parte dei casi è una chimera cioè non sono disponibili effettivamente dei dati perché le agenzie interinali queste cose non sono molto propense a dirle ehm ma stando comunque alla quella che è stata la mia esperienza tanto nelle grandi aziende quanto nelle piccole e medie aziende il rapporto tra lavoratrici assunte e lavoratrici interinari interinali raramente scende al di sotto della metà eh in alcuni casi io ho lavorato al settanta per cento come diciamo eh numero di lavoratrici interinali rispetto alle lavoratrici effettivamente assunte. Eh a seconda del del tipo di azienda in cui uno si si trova a lavorare si passa da contratti totalmente diversi l'uno dall'altro quindi ehm sia contratti di gomma plastica, contratti chimico farmaceutici, fino anche a molti servizi che veniva eh citato prima anche contratti di di artigianato. Quindi oltre alla discontinuità del lavoro che si ha si ha una discontinuità anche nel salario ehm perché per esempio nei contratti di artigianato eh le paghe sono veramente basse per esempio ehm in questo caso si tratta di una paga oraria lorda di sette euro e cinquantanove cioè che è veramente 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 basso. Eh diciamo che in tutte queste in tutte queste aziende consuetudine cominciare l'impiego con dei contratti di lavoro che sono brevissimi. Eh nella mia esperienza il contratto più breve è stato di tre giorni come inizio diciamo al lavoro ma ho avuto colleghe nel tempo che hanno iniziato il lavoro con contratti di un giorno cioè come se una persona in un giorno potesse sapere che cosa deve fare che lavoro deve andare a svolgere no? Comunque essere assunti tramite interinali eh agenzie interinali costringe a lavorare nella paura e non se avete sentito magari se avete lavorato come interinale o avete avuto delle delle colleghe queste frasi non vi saranno nuove per esempio se mi ammalo mi lasciano a casa perché ovviamente non ci si può permettere di ammalarsi perché non ti rinnovano il contratto altrimenti oppure se sbaglio qualcosa mi lasciano a casa dicevo prima con contratti di un giorno tu già devi sapere tutto alla perfezione non ti puoi permettere di sbagliare e invece la frase diciamo che è la più gettonata di tutte è se vado piano mi lasciano a casa perché qui si tratta di andare in velocità hanno non si fa il cottimo perché non si fa però più o meno siamo lì nel senso devi essere velocissima se ti permetti di rallentare magari dopo otto ore ma ti chiedono di fare altre due ore di straordinari eh non vai bene ti lasciano ti ti lasciano a casa se rallenti se vai piano eh in poche parole se non chieni la testa ti ti lasciano a casa non lavori più non importa che tu sia una madre di famiglia o che tu magari abbia 65 anni una mia collega abbiamo lavorato insieme un anno è stata 65 anni è stata lasciata a casa due anni dalla pensione cioè cose veramente allucinanti e in aggiunta gli interinali sono in balia completamente degli ordinativi delle commesse aziendali no eh pensate che nel 2014 eh da un giorno all'altro in una grande azienda azienda multinazionale qua nei dintorni cremaschi ha lasciato a casa 118 operaie ehm adette diciamo mansioni diverse eh ma casi analoghi sono all'ordine del giorno cioè non sono eh si sentono quotidianamente cambi di ragioni sociali di ditte o chiusure di cooperative no e ovviamente chi paga è sempre la lavoratrice il lavoratore ehm allora eh le donne svolgono le mansioni più disparate in queste in queste aziende e sono completamente diverse rispetto agli uomini si occupano gli uomini si occupano principalmente di manutenzione di spostamenti eccetera di spostamento carichi mentre le donne vengono eh riservati tutti quei lavori più di precisione eh perché si sa che le donne sono più precise più veloci ordinate no rispetto agli uomini hanno le mani più piccole ovviamente eh e quindi si presume che una donna possa stare otto dieci ore ad attaccare i bollini sul sul fondo dei rossetti o delle matite no sempre nella stessa posizione eh e questo fa sì che ci siano delle conseguenze gravissime sulla sulla salute no di questi lavori ripetitivi logoranti ehm cioè quasi tutte le mie colleghe sono state operate di tunnel carpale me compresa ma questo diciamo che è il male minore sono all'ordine del giorno problemi alle articolazioni eh problemi muscolari posturali chi più ne ha più ne metta in un'azienda eravamo costrette eh costrette eravamo tenute per il lavoro a sollevare con entrambe le braccia una in entrambe le mani delle bocciate di profumo da più o meno mezzo chilo l'uno eh per guardare in controluce attraverso il neon se ci fossero delle impurità quindi dei micro residui di cose all'interno del liquido questo per nove ore di fila tutti i giorni quindi oltre a spaccarti le braccia ti spacchi anche gli occhi eh per i neon eh non si considerano eh vado e vado verso la chiusura a tante altre cose come eh la sicurezza quindi cioè tanti non vanno non vanno non vengono considerati dpi tipo scarpe antinfortunistiche mascherine si respirano micropolveri per esempio negli ombretti eccetera e un'ulteriore di divisione è sulla base del eh della mansione della mansione ovviamente alle persone straniere alle donne straniere vengono affidati quelli che sono i compiti più pesanti più logoranti comunque questo per dire che il boom della cosmetica cremasca si regge sullo sfruttamento ehm e le lavoratrici sono considerate usa e getta praticamente no e sono ricattate e sottopagate e e niente e chiudo qui scusate grazie Alice grazie mille passo la parola a Gemma Banducci ricordo di guardare la chat per i tempi dopo Gemma la parola a Gianplacido Ottaviano scusami Gemma mi devi scrivere sotto che profilo sei inserita perché dovrei andare indietro nella chat a cercarti trovata Francesca Francesco Fusco ok dovresti avere l'audio attivato ok mi sentite tutti forte e chiaro parla pure ok perfetto eh allora intanto buonasera a tutti quelli che stanno partecipando a questo convegno eh io mi chiamo Gemma e faccio parte di sinistra classe rivoluzione della sezione di grosseto ehm con il mio intervento non volevo andare tanto a toccare quelle che sono in realtà le condizioni delle lavoratrici ma eh quelle che sono le condizioni che ehm si vivono nel mondo della scuola eh da studentesse come future lavoratrici eh io personalmente ehm da studentessa di medicina veterinaria eh mi rendo conto perfettamente di quello che è il mondo del lavoro che eh che mi è che eh ritroverò eh l'ambiente della veterinaria è un ambiente che bene o male eh accetta la figura professionale della donna e le dà un minimo di validità e di rispetto solo se si inserisce eh nel contesto eh di quelli che sono gli animali d'affezione quindi dei cani e dei gatti mentre è un totale diciamo tabù e un e si va a incontrare ehm un ambiente totalmente eh maschilista e bivotto in quelle che sono ehm appunto l'ambiente dei grossi animali degli animali dal reddito ma ehm come me eh ci sono tutta c'è tutto uno strato eh di eh ragazze e di futuro appunto di future lavoratrici che si rendono conto che eh di quella che è l'oppressione che andranno a vivere ma anche di quella eh che è l'oppressione di genere che eh permia l'ambiente l'ambiente scolastico e che si vive ben prima dell'entrata nel mondo del del lavoro e questo sono diciamo mh stato confermato eh anche in modo empirico eh da quella che è stata la la propaganda per questo convegno eh nel diffondere i volantini davanti alle scuole erano ben pochi i ragazzi e le ragazze soprattutto eh che rifiutavano il volantino e che non si interessavano all'iniziativa. Eh appunto come dicevo l'ambiente scolastico porta in sé eh l'oppressione di genere e la discriminazione in quanto non è slegato da quella che è la società non è un ambiente neutrale eh ma ne porta in seno diciamo tutte le le contraddizioni che sono state state esposte negli interventi che mi hanno preceduto e nella nella relazione. Ma questo si può vedere ehm diciamo in tutta una serie eh di esempi. Ad esempio quella che è stata la vicenda ehm del liceo Giulio Cesare a Roma dove l'iniziativa eh che era stata portata avanti dagli studenti di eh parlare durante eh appunto la settimana dello studente eh con un'assemblea del diritto all'avorto e dell'identità di genere eh è stata eh come si può dire eh totalmente eh eh repressa in quanto i contenuti che venivano portati non si ritenevano eh appropriati per dei ragazzi ma ancora eh per la vicenda che si è vissuta eh a Torino dove una maestra vittima di revenge porn è stata eh licenziata senza pensarci due volte mentre appisa un insegnante che aveva abusato di una sua studentessa è stato mandato a casa con eh solamente un anno di di sospensione eh da dalla mansione. E ancora eh l'ambiente scolastico è quell'ambiente ehm che si preoccupa eh della di una minigonna troppo corta o di una maglietta troppo scollata ponendo le eh le studenteste eh ma eh diciamo non eh non considera non prende nemmeno in considerazione eh uno straccio di eh educazione sessuale eh per esempio per vivere eh una sessualità sicura e consapevole mentre eh da orario eh c'è appunto un'ora di religione a settimana ma diciamo non possiamo aspettarci altrimenti eh da un sistema scolastico che appunto come dicevo prima eh è inserito in un sistema ormai eh marce corrotto. Eh lo lo vediamo da quelle che è stata l'introduzione anche gli interventi dove eh quelle che sono le condizioni delle lavoratrici dove molto spesso una lavoratrice deve scegliere tra eh l'essere madre o appunto essere lavoratrice e questa scelta non è nemmeno eh troppo scontata se prendiamo eh in considerazione il fatto eh che c'è una rete di di consultori che è irrisoria e che in alcune regioni eh il tasso di eh obiettivi di medici obiettori arriva addirittura a appunte che toccano l'ottanta per cento. Io penso che eh da studente e da studentesse dobbiamo renderci conto di quella che è la nostra importanza e di quello che è il ruolo che possiamo eh giocare a fianco eh della classe lavoratrice. È un esempio diciamo vivo, nitido e anche abbastanza recente eh sono quelli che sono gli gli eventi diciamo che si sono eh si sono svolti in Venezuela dove eh la marea verde di eh decine di migliaia di donne eh è scesa in piazza eh per ehm protestare contro eh la porta che eh era illegale e a fianco delle lavoratrici si sono eh si sono riversati anche quelli che sono gli studenti e quindi da questa vicenda eh possiamo imparare che eh l'unica soluzione è un fronte unito di eh studenti e scolati dell'Argentina non del Venezuela ho detto una cappellata mi sono resa conto adesso ehm quello che possiamo eh capire come dicevo da gli eventi che ci sono stati in Argentina ehm è che eh l'unica soluzione è un fronte unito di studenti, di studentesse, di lavoratori, di lavoratrici eh che vanno verso un obiettivo comune che secondo me è sintetizzato molto bene da una frase di Camilla Ravera eh ovvero eh la donna libera dall'uomo entrambi liberi dal capitale. Grazie. Grazie mille Gemma eh adesso la parola ce l'ha Gianplacido Ottaviano e si prepara Samira Agi. Mi sentite? Ci sentiamo. Ok allora io cercherò di essere breve volevo parlarvi io sono Ottaviano Gianplacido delegato della FIOM della Bonfiglio Riduttore di Bologna anche io di sinistra classe di rivoluzione volevo raccontarvi un po' delle vertenze della Jux io l'ho vissuta in prima persona perché sono stata le manifestazioni delle lavoratrici da Jux più ho avuto la possibilità di intervistarle visto che insieme a un'altra una compagna che oggi comunque è collegata anche lei abbiamo una trasmissione radiofonica in cui affrontiamo la questione delle donne eh molte volte ci capita che che questa trasmissione radiofonica di Bologna si chiama il pane alle rose di tutti quanti andare anche su una pagina Facebook a vedere i podcast parlando di spesso di crisi eh di contattazione di lavoro ci troviamo spesso a parlare del problema della questione femminile eh della questione femminile nel mondo del lavoro eh con le crisi e situazioni di oggi soprattutto dei problemi ci sono oggi di crisi di sfruttamento la vertenza della Jux è è particolare perché non abbiamo un'azienda eh che è in crisi questo caso abbiamo una multinazionale che soprattutto nel momento della pandemia visto che si tratta di vendita di vestiti online ha visto triplicare potriplicare i suoi profitti eh la situazione è molto più complessa e complicata e ci fa capire ci ci da il messaggio di cosa è il capitalismo fondamentalmente e di come il capitalismo non può accettare assolutamente che si vada oltre la logica del profitto perché in quel caso lì la Jux riesce a fare tutto quel fatturato perché utilizza in maniera prevalente tantissima monodopera legata alle cooperative eppure eh se anche un'azienda così forte finanziariamente in realtà ha sempre sfruttato eh cooperative eh appalti sub appalti eh per abbassare sempre per aumentare sempre più profitti e queste donne si sono trovate in una situazione in cui loro hanno eh utilizzato la pandemia per poter fare ancora più profitti la scusa della sicurezza del fatto che eh bisognava fare i turni per evitare la la presenza delle delle dei lavoratori tutti insieme dunque i turni erano una erano fondamentali per per la sicurezza dei lavoratori facendo così hanno messo in difficoltà delle donne che potevano fare i turni in questa vertenza c'è tutto c'è la multinazionale spietata che non guarda le esigenze dei lavoratrici ma guarda il profitto perché chiaramente facendo i turni avrebbero aumentato il profitto perché aveva bisogno di lavorare di più e questa è la vera realtà è realtà che avevano bisogno di lavorare di più dunque hanno infatti loro hanno assunto perché a fronte dei licenziamenti di queste lavoratrici mari che non riuscivano a gestire i loro figli hanno assunto donne sempre senza figli e dunque lì eh si è visto come è palese la situazione di di mancanza della possibilità di come di oggi in certi per certe proletari di prendere dei figli chiaramente queste donne quando avranno dei figli stavano in difficoltà e c'è anche la difficoltà della lotta sindacale perché chiaramente in quel caso lì eh c'è la cgl che non ha reagito come doveva reagire e lì queste lavoratrici per maggior parte sono legate ai sicobas c'è stata una stupida diatriba sindacale che ha peggiorato le condizioni di tutti in quel caso ora cosa mi ha insegnato a me e che fondamentalmente io come anche delegato sindacale spesso eh mi trovo a a dover combattere ehm con soluzioni sindacali eh situazioni che sono fondamentali oggi stamattina Arianna parlava che andavamo a risolvere a combattere i sintomi e non la radice dei problemi ed è quello che succede perché fondamentalmente fin quando eh ci sarà la logica del profitto fin quando il profitto sarà la base eh dell'economia e chiaramente le donne ma come anche gli uomini si troveranno di fronte a dei problemi che dovranno risolverli cercando di di cercare delle soluzioni che sono momentane quello che è successo da Jux è successo in parte anche in Bonfiglioli nel nostro caso avendo un'azienda una forte forza sindacale e in cui eh non è che il profitto non sia al primo posto ma anzi ma lui comunque alla fine eh dove si fanno delle battaglie noi quel caso lì le donne che non potevano fare i turni sono rimaste al turno centrale e abbiamo aver organizzato i lavori in maniera tale che le donne potessero avere un'agevolazione al turno il turno migliore per poter vivere la loro la loro maternità e anche in questo momento stiamo facendo con la nuova nuova ondata però dal da una figlioli che non si può permettere di comportarsi come la Jux perché sennò si troverebbe decine di ore di sciopere contro cosa fa nel nostro caso anche lì pensando sempre solo al profitto approfittando lo smart working assistiamo sempre di più che tutte le assunzioni che vengono fatte in questo momento bisogno di lavorare sono tutte in officina di uomini e negli uffici di donne il contratto da quando si fa lo smart working in Bonfiglioli e io qui vorrei anche parlare un po' della differenza che c'è tra smart working e il lavoro remotizzato forse non è stato affrontato in maniera specifica ma oggi il problema che ci stiamo trovando di fronte a causa della pandemia più che lo smart working è il lavoro remotizzato senza i diritti sindacali che è il problema che ci troveremmo di fronte tra un po' perché io penso che fino alla pandemia i padroni hanno capito quando è conveniente il lavoro remotizzato che senza diritti sindacali e ci troveremo una situazione veramente di problemi esagerati per tutte le lavoratrici ma quello che noi vediamo in fabbrica che non riusciamo a risolverlo è che tutte le ultime assunzioni fatte gli ultimi due anni in Bonfiglioli in officina non si assumono più donne e negli uffici la stragrande maggioranza tutte donne questo mi fa capire che anche in un'azienda sindacalizzata in realtà la questione femminile è divinente ma ma quello che come la si risolve si risolve solo cambiando la società c'è solo quando non ci sarà l'oggi del profitto si potranno risolvere tutti i problemi che esistono tutti i problemi di cui sono stati elencati da stessa mattina ad oggi tutte le bisognerebbe far sì che non ci sia la questione del profitto oppure del del costo e oppure del debito questo alla fine sono la stessa cosa ecco perché non è in un mondo socialista in un paese socialista e questi problemi non esistono perché se al primo posto c'è la maternità e non il profitto i congeli parentali sono pagati al cento per cento e durano tutto il tempo che una donna ha bisogno per poter poi iniziare a lavorare senza dover rinunciare al lavoro ma questo può accadere solo in un mondo in cui l'economia è un dato di fatto reale ecco perché abbiamo bisogno sempre più però questo non significa che non dobbiamo fare le battaglie perché la cosa più importante che io non riesco ancora a fare da me al lavoro è avere una situazione tale che le lavoratrici della buon pignoli possono fare attività politica e sindacale chi ha figli chi ha famiglia in maniera tranquilla ecco perché comunque noi dobbiamo batterci per le riforme che sappiamo che non sono la cura al vero problema ma sono ma sono utili per poter dare la possibilità alle lavoratrici di avere del tempo libero per soprattutto per fare attività politica che deve essere attività politica e sindacale e rivoluzionaria che deve comunque porre alla risoluzione completa del problema per poter poi veramente avere la una parità di poter vivere la vita senza dover essere schiava del lavoro schiava del lavoro domestico schiava della vita di tutti i giorni il problema di essere madre perché questo è un problema io credo che dobbiamo cercare in tutti i modi di attuare solo con l'organizzazione politica e sindacale senza la battaglia politica la sola battaglia sindacale purtroppo non riesce a dare i risultati che noi vediamo e anche dove si combatte e si lotta sono vittorie parziali e momentari sono una bottiglia politica una battaglia politica nazionale anche internazionale il cambiamento della società può portare a me risultati soprattutto per le donne ma per tutti gli uomini ok scusate problemi ok ok allora dovremmo cercare provare a ridurre a otto minuti gli interventi non siamo in ritardissimo però potremmo recuperare un po di tempo che abbiamo utilizzato in più per problemi tecnici e altro quindi do subito la parola a samira aggi scusa se ho letto male e si prepara la parola a samira e si sentite si ti sentiamo ti vediamo si va ok io non vedo nessuno qua ma va bene ok buonasera a tutti sono samira della sessione modena e faccio l'operatore socio sanitario dell'assistenza domiciliare nel servizio che si occupa delle dimissioni protetti dell'ospedale sono anche una madre e single che lotta sia per lavoro sia per altre cose importanti nella vita della della donna io questa sera volevo vorrei portarvi un un settore importante un settore che si è allargato molto con diciamo fra parentesi la rivoluzione industriale qua in italia il settore dell'assistenza agli anziani anche alle disabili un settore che diciamo dove c'è il 90 per cento delle donne in cui ci sono le 70 per donne stranieri che faccio anche io parte un settore diciamo io parlo solo del settore del territorio modena perché abito a modena e c'è tante cose da dei da dire un settore che c'è la donna che viene sfruttata io parlo anche del della donna in generale però qua ci sono la mano d'opera il 70 per cento come detto la donna straniera quando parlo della donna straniera vuol dire che ci sono tutte le nazioni qua marocchini egistiani nigeriani paidi l'est e tutto quanto un settore che la posta paga immiserabile che non riusciamo neanche arrivare al fine di mese un settore che la malattia delle schiene e la diffusa e non viene mica conosciuta come come malattia professionale quindi se un'operatrice o lavoratrice ha avuto d'ernia della schiena qualcosa non viene mica conosciuta quindi deve continuare con questa malattia a lavorare la sola cosa che viene conosciuta o le tendine o il braccio che sono di malattie proprio con molto molto diffuse in questo settore è un settore che ultimamente viene applicato per le lavoratrici c'è un sistema del della posta paga che si chiama la mensilità c'ho la banca ore io una lettura per questo sistema non le ho però quello che capisco e quello che vedo che lavoratrice l'operatore socio sanitario fa fatica a aggiungere le ore per non avere il diminuisce la diminuire che viene per non avere la diciamo la posta paga diminuita al fine di mese è un settore proprio che per troppo non si parla mica tanto ma non neanche lavoratrici diciamo non hanno mai il coraggio di 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 andare lottare per il cambiamento di di tante cose un settore che ha avuto l'accreditamento che ha diciamo ha massacrato questo settore tutto sappiamo questo accreditamento è nato dopo la crisi di 2009 2008 e questo sistema americana che dà alla riduzione di di tempi di costi e tutto qua sulla spalla di lavoratrice quindi io posso dir darvi un un esempio ad esempio nelle strutture è stato calcolato anche per lavoratrice dieci minuti a quindici minuti per l'alzata quindi lavoratrice dove fare tutto il giro delle anziane per la varie per fare l'iziene per alzarle il giro di quindici minuti a ad uno quindi ogni uno deve fare dieci quindici minuti e dove stare negli tempi che sono stabilite per questa lavoratrice e potete immaginare al fine della giornata come è questa lavoratrice come andrà a casa sua e questi turni sarà sono tre sul mattino e pomeriggio e e la notte e la notte anche obbligatore per le lavoratrici di fare la notte anche sia un bimbo non lo so la legge dici dopo un anno di vita lavoratrice può fare le notte io non lo so come fare una madre single non ha nessuno come fare per lasciare il figlio e andare a lavorare e lasciare il figlio ancora per piccolino ancora piccolo questa di una parte ed un'altra parte vuole anche diciamo segnalare diciamo una un punto importante della violenza sulle donne qua vorrei solo dire che le donne stranieri hanno subito violenza fisica o sessuale in misure come le donne italiane qua ma però vedo solo qualche qualche scifre che dimostrano la differenza fra la violenza sulla donna straniera che la donna italiana ad esempio sul la violenza sessuale la donna straniera ha vissuto il 25,7 per cento in confronti della donna italiana che il 19,6 per cento sulla violenza diciamo gli stupri il 7,7 per cento del delle straniera che il 5 per 5,1 per cento la donna italiana quindi la donna straniera presenta un percentuale di violenza psicologico più elevato delle donne italiane che arriva al 34,5 per cento e tra questi emergono le donne marocchini che sono arrivate al 50,9 per cento quindi questo percentuale alto di questa violenza anche sulle donne stranieri su anche le donne marocchine che posso dire anche una cosa su questo settore della donna marocchina che sono anch'io marocchina che la come ha detto la mariana la mattina la società patriarca è molto presente ancora molto molto forte nel nelle famiglie straniere che subiscono anche di 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 violenze del marito ma non vengono mica a denunciare le loro violenze e poi vorrei anche dire una cosa perché anche nella società italiana questa diciamo questa società patriarca è molto forte anche qua però diciamo che nata un new patriarca una famiglia diciamo che è truccata di fuori ma al fine non c'è mica differenza fra la famiglia marocchina famiglia straniera e la famiglia italiana c'è sempre questo fenomeno della potenza del maschile sulle donne e grazie ringrazio tantissimo samira che è stata perfettamente negli otto minuti ho cercato di fare il tutto guarda grazie samira adesso do la parola a laura minadeo e si prepara massimo pieri sì eccomi qua ti sentiamo ok allora ciao a tutti io sono laura e sono una compagna della sezione di bologna e lavoro nel settore del commercio e la prima cosa che volevo dire che secondo me questa questa pandemia ha messo davanti alla davanti agli occhi di milioni di lavoratori la natura brutale del capitalismo il profitto viene prima persino della nostra salute e del nostro e della nostra e della nostra vita stessa ma ancor più ha messo le donne davanti ad una diciamo così alla lampante evidenza che loro sono cittadine di serie b e anche lavoratrici di serie b ma non solo che in questo paese lo stato sociale è rappresentato proprio dalle donne lo stato sociale sono loro a seguito di tutti i tagli che ci sono stati è ricaduto tutto sulle sulle donne la cura dei figli la cura degli anziani la cura anche di chi ha dei disabili in famiglia i numeri che citava margherita nella sua nella sua introduzione sono impietosi e non lasciano credo alcun dubbio a questo riguardo ma la situazione delle donne è peggiorata in entrambi i casi cioè sia delle donne che hanno dovuto e non hanno avuto altra scelta diciamo così che lasciare il loro posto di lavoro perché non riuscivano a conciliare appunto le cure familiari con il lavoro ma anche delle donne che sono rimaste al lavoro delle donne lavoratrici che come come dicevano altri anche altri compagni prima di me i congedi parentali si sono stati concessi ma sono ridicoli non coprivano nemmeno minimamente tutto il salario perso ma oltre ai congedi parentali tantissime sono state le donne che hanno dovuto fare ricorso alle proprie ferie a permessi alla all'aspettativa non retribuita perché non si sa a chi lasciare i propri figli o a maggior ragione se si hanno dei figli e in più un disabile in famiglia la cosa peggiora ulteriormente non lascia appunto altra scelta che ricorrere che ricorrere all'aspettativa e quindi come dicevo le condizioni sono comunque peggiorate per per queste donne che acquisiscono appunto sempre più consapevolezza della loro della loro della loro situazione che le pone davanti all'evidenza di essere appunto cittadine o esseri umani ecco non tanto cittadini esseri umani di serie B che subiscono tutta una serie di pressioni in più che comunque l'uomo l'uomo non subisce ma e ma e quindi come dicevo anche la il ricorso a queste ferie per me si è comportato comunque una perdita di salario anche se non hanno dovuto rinunciare al direttamente al posto di lavoro e però io penso sono d'accordo con Margherita quando diceva che tra le donne comunque c'è tutt'altro che rassegnazione e lo diceva anche Mario prima di me io penso io sono completamente d'accordo che dalle che dalle donne potrebbero nascere delle notte delle lotte molto esplosive proprio perché le donne sono stanche conciliare sempre i tempi della famiglia con i tempi del lavoro non è affatto facile sono costretti a fare i salti mortali a rinunciare al appunto a parti di salario a parti della loro della loro vita per tenere insieme tutto e quindi la stanchezza si tramuta presto in rabbia e molte donne si guardano intorno e cercano delle e cercano delle risposte cercano un modo ecco per poter per poter cambiare la loro situazione io penso che sia molto importante nel prossimo periodo che noi riusciamo a intercettare queste donne a parlare con queste donne e a fornire loro appunto le le risposte perché comunque a far capire cioè a spiegare loro ecco da dove nasce innanzitutto la loro situazione la loro situazione svantaggiata all'interno della società che so che è stato argomento del dibattito di stamattina qui purtroppo non ho potuto assistere ma ma è molto importante appunto spiegare alle donne da dove nasce la loro oppressione e come possono liberarsi liberarsi da questa oppressione dobbiamo spiegare alle donne che la risposta non sono le quote rosa o le donne al potere perché sento troppe volte da parte di troppi eh talk talk televisivi ma anche c'è persone giornaliste politiche che se ci sono le donne la risposta è che le donne dovrebbero comandare se comandassero le donne in questa società tutto andrebbe meglio e sicuramente le loro la loro situazione migliorerebbe dobbiamo spiegare alle donne che non è affatto così con degli esempi anche concreti ricordiamo che in Germania c'è la Merkel da ben più di dieci anni e non penso che le lavoratrici tedesche abbiano delle abbiano delle delle condizioni di vita davvero davvero pari davvero pari a quelle davvero pari a quelle dell'uomo o in Italia anche c'è stata la presidente di Confindustria che era una donna ci fu l'epoca della Marcegaia e non mi sembra che abbia dato delle che abbia dato dei vantaggi così significativi o dei miglioramenti se non dei vantaggi dei miglioramenti alle condizioni femminili invece c'è il tuo queste donne come dicevo rappresentano invece il nemico il vero nemico sono i padroni è la borghesia la mia nemica è comunque se fossi una volta c'è tedesca ma anche se non lo sono è comunque una una mia nemica mentre non è il mio nemico il mio collega di lavoro e e questo diciamo così deve essere deve essere chiaro per quelle donne che appunto cercano una risposta e tante volte la si la si la si pone diciamo l'argomento in maniera sbagliata perché comunque la risposta non è le donne al potere ma la classe lavoratrice al potere la condizione delle donne potrà migliorare solamente quando queste scenderanno in lotta e con le lotte si conquisteranno il si conquisteranno la loro emancipazione ma al fianco della loro lotta non ci saranno le lotte le donne della borghesia ma ci saranno gli uomini della tua stessa classe c'è la classe lavoratrice il proletariato e insieme a loro e solamente insieme alle lotte proletarie che possiamo far avanzare la nostra far avanzare la nostra posizione sì con quest'ultimo concetto chiudo e far avanzare la nostra posizione e conquistare una reale uguaglianza perché come diceva anche dei compagni prima di me l'uguaglianza sulla carta nelle leggi c'è già il problema è che siano poi reali perché davanti alla legge possiamo anche essere tutti uguali però se io poi prendo il trenta per cento di salario in meno rispetto al mio collega quella non è uguaglianza e non serve che ci sia scritta la legge io devo conquistarmelo con la lotta e quindi penso che sarà per noi fondamentale nel prossimo periodo rivolgerci rivolgerci alle donne penso anche al mio stesso settore che stiamo per rinnovare il contratto nazionale e quella può essere un'occasione per lanciare una piattaforma realmente rivendicativa per per le donne per poterle approcciare diciamo così e fornire loro quella che è la nostra visione sulla questione femminile e su come si può risolverla che è in definitiva poi la visione del marxismo e basta chiudo grazie grazie mille laura adesso la parola c'è la massimo pieri e si prepara federica carasi sì mi sentite compagni sì ti sentiamo ok allora io sono massimo e sono un delegato fiume di un'azienda informatica e un militante di sinistra classe rivoluzione posso rilasciare anche a una cosa che diceva laura nell'intervento precedente riguardo al fatto che non è che si risolve molto dando il potere così alle donne in un contesto di capitalismo questo è abbastanza evidente dalla realtà dell'azienda nella quale lavoro che appunto essendo un'azienda informatica alla maggior parte di lavoratori che hanno un alto livello diciamo di specializzazione di istruzione quindi sono in una fascia diciamo alta della classe operaia questo da un certo punto di vista sembra avere degli aspetti favorevoli anche per quanto riguarda la condizione femminile per esempio c'è la maternità è pagata al cento per cento con un accordo aziendale per tutto il periodo sia l'obbligatoria che quella facoltativa c'è una sensibilità particolare riguardo le condizioni di genere ci sono un numero discreto significativo di donne in posizioni dirigenziali comunque apicali però nonostante tutto questo comunque noi sappiamo come rsu che la maggior parte delle lavoratrici comunque è in part time e che c'è un gender pay gap che è molto importante dalle informazioni che ci vengono dall'informativa obbligatorie annuali che ci vengono date dall'azienda proprio e quindi è evidente che le situazioni singole sono sempre una minoranza rispetto a quelle che è la condizione generale delle lavoratrici anche nelle condizioni che sembrano migliori e quindi c'è un malcontento diffuso da parte delle lavoratrici anche in questo tipo di di contesto che è stato esasperato dalla pandemia e dall'utilizzo massiccio dello smart working tutti noi siamo quasi tutti in smart working dipendenti dell'azienda appunto dove lavoro da da un anno circa cioè dall'inizio della della pandemia e abbiamo riscontrato i maggiori problemi problemi più gravi proprio riguardo alle lavoratrici perché lavoratrici con per le lavoratrici con con figli in età scolare come sta anche detto lo smart working è una sorta di di arma a doppio taglio se può semplificare alcune alcuni aspetti diciamo legati alla alla conciliazione del tempo di lavoro con il tempo di vita però diventa se le scuole sono chiuse ovviamente i figli sono a casa che devono essere seguiti lavorare e badare i figli contemporaneamente diventa a volte una condizione impossibile quindi noi abbiamo avuto diversi casi lavoratrici che sono dovute nonostante appunto lo smart working cioè in realtà la remotizzazione del lavoro che è il termine più corretto abbiamo avuto diversi casi lavoratrici che hanno dovuto prendere i congedi covid al 50 per cento finché ci sono stati e poi addirittura in qualche caso c'è stato anche qualche caso di utilizzo dei permessi non retribuiti quindi addirittura con con l'azzeramento dello stipendio che è una cosa è una condizione assolutamente in accettabile ovviamente e quindi anche in tutto questo ovviamente noi siamo siamo in stato di agitazione per per cercare di avere una regolamentazione dello smart working decente però in abbastanza difficile farlo azienda per azienda a livello singolo ci vorrebbe un 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 coordinamento maggiore anche da parte delle organizzazioni eh dei lavoratori della cgl eh che è il sindacato nel quale mi dito a questo proposito voglio solo accennare che nel contratto eh nazionale sullo smart working ehm non si è ancora si è deciso di non decidere eh demandando la stesura eh di una regolamentazione eh ad una ad un avviso comune tra tra le parti eh che verrà incluso nel contratto credo nel nel momento della stesura però non non è chiaro cosa cosa verrà eh cosa verrà scritto a parte una 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 formulazione molto generica che c'è un accenno molto generico eh che c'è nel contratto quindi anche da questo punto di vista eh è assolutamente eh insufficiente ehm quindi eh dicevamo il malcontento che c'è eh nelle lavoratrici per queste eh per queste loro condizioni eh spingerebbe a a prendere iniziative per quanto riguarda da eh l'otto marzo che come diceva anche Mario prima nel suo intervento eh in alcuni negli ultimi anni eh è diventato da una giornata di festa eh che che sembrava prima è diventata una giornata di lotta e questo è un qualcosa che deve essere assolutamente mantenuto secondo me eh la CGL eh non so è rimasta eh rimasta indietro eh e questa è questa posizione che a cui si è accennato eh vedo che sono già sette minuti questa posizione eh a cui si è accennato ehm di dare semplicemente la la copertura è una posizione assolutamente ipocrita e inadeguata. Noi abbiamo mh abbiamo proclamato eh otto ore di sciopero per per l'otto marzo ma anche anche qui eh la CGL dovrebbe porre alla testa secondo me del eh della mobilitazione per eh per una parità di genere nel nel mondo eh del lavoro. Ci sono delle sensibilità di singoli magari funzionari che ti dicono in privato ma io sono d'accordo però eh però non lo posso dire ufficialmente eccetera però queste cose non si traducono poi in una eh in un'effettiva in una concreta eh presa di posizione da parte della maggiore eh organizzazione sindacale eh italiana e questo deve cambiare secondo me. Ho finito. perfetto. Grazie mille anche a Massimo. Adesso la parola ce l'ha Federica Carasi e si prepara eh Davide Fiorini per l'ultimo intervento. Vai Federica. Ciao. Ciao compagni mi sentite? Benissimo. Perfetto grazie. Eh intanto mi presento mi chiamo Federica e sono militante della sezione olandese della tendenza marxista internazionale. Sono molto contenta di eh poter partecipare a questo dibattito anche se ovviamente a distanza come come tutti poi. Eh ne volevo approfittare per sfatare qualche mito sui paesi del del nord centro Europa dove sembra che tutto sia bello e che tutto funziona alla perfezione. Ci sono diverse cose che eh stando qui ormai vivo qui da da quasi quattro anni sto scoprendo via via e eh alcune di queste mi hanno lasciato molto di stucco. Tra queste il fatto che in Olanda fino al millenovecentocinquanta sette le donne impiegate nella pubblica amministrazione erano obbligate ad autolicenziarsi una volta sposate poiché il loro marito avrebbe potuto occuparsi delle finanze familiari e quindi loro potevano starsene a casa a curarsi di far figli e eh e di cucinare. L'Olanda è il paese europeo secondo solo alla Spagna eh per numero di contratti di lavoro flessibile e part time eh che vengono elargiti. Eh il dato sull'occupazione femminile è ehm probabilmente più alto rispetto all'Italia qua il 60 per cento delle donne sono economicamente indipendenti contro comunque il 79 per cento eh della forza lavoro maschile ma eh il 73 per cento eh delle lavoratrici lavorano part time quindi meno di 30 ore settimanali ed è il dato più alto eh in Europa e eh quando una donna lavora full time part time è spesso aditata come una persona che vuole venire meno ai suoi doveri familiari e qualche parola sul part time eh volontario eh involontario la la vorrei spendere perché penso che merita attenzione. Part time orario flessibile sono tendenzialmente volontari qui nel senso che eh già in sede di colloquio di lavoro eh si può dare la la propria disponibilità lavorativa ma eh il problema è che molto spesso ehm la scelta non è eh non è molto libera ehm poiché eh gli asili nido hanno prezzi eh molto alti e eh peraltro eh le chi lavora lì sono tendenzialmente eh donne educatrici con contratto di lavoro a zero ore oppure estremamente eh precario quindi in pratica vivono con quelli telefoni in mano aspettando la la telefonata giusta per andare a lavorare sperando che questo arrivi e eh anche le scuole elementari hanno un problema hanno un grave problema di mancanza di organico perché mancano gli insegnanti cosicché se un insegnante è malato l'intera classe deve starsene a casa perché sul plente non c'è e dunque anche la madre deve starsene a casa perché appunto deve deve occuparsi eh del figlio. Ho detto poco fa che gli asili nido sono estremamente costosi eh tendenzialmente le famiglie ricevono aiuti statali nel caso in cui eh non non abbiano la possibilità di eh di eh di pagarlo però eh ovviamente devono rispondere a determinati requisiti e questi sono piuttosto rigidi. Ed è proprio su questo punto che c'è stato un vero e proprio scandalo venuto a Galla circa un mese fa e sul quale il governo è peraltro caduto. E ciò che è successo in breve è che diverse migliaia di persone richiedenti sussidi sono stati accusati di aver dichiarato il falso e dunque di aver commesso una frode e sono state condannate a dover pagare indietro cifre che si aggirano tra i diecimila e i trentamila euro a seconda dei casi e in particolare c'è stata una vera e proprio la caccia alle streghe verso quelli che sono stati identificati come eh gruppi di rischio cioè famiglie di lavoratori immigrati eh oppure singole singole madri che vengono additati come eh come persone che pur di ottenere qualche aiuto dichiarerebbero la qualunque. E ovviamente queste famiglie adesso si trovano in condizione di estrema povertà eh persino hanno subito degli sfratti per l'impossibilità di di pagare l'affitto eh oppure oppure altro per dover ripagare i i debiti indietro. Eh adesso eh il governo di missionario su questo ha detto che eh verranno in qualche modo risarciti eh ma eh l'agenzia eh delle tasse sta eh in qualche modo cercando eh di di aggirare eh i risarcimenti perché continua a dire che i debiti devono essere pagati indietro comunque questi debiti non sono stati ancora cancellati. Ora questo episodio è evidentemente scandaloso ma anche diversi problemi di fondo eh ovviamente uno è quello della gestione scellerata e raccista della 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 raddizione di assegni familiari ma l'altro è anche il fatto che una donna è liberissima di decidere se fare i figli o meno dopodiché sono a fare i suoi perché lo stato i datori di lavoro sono in grado di dettagli solo in modo estremamente parziale. E non succede solo dal punto di vista della maternità perché anche il diritto alla paternità è estremamente limitato cioè si ha diritto a una sola settimana di paternità dopo la nascita del figlio e eh se si vuole una settimana in più questa pagata solamente al 70 per cento dello stipendio che se va bene se il tuo stipendio va bene tre virgolette se eh il tuo stipendio è più di 3.000 euro al mese ma ma se invece lavori alle poste e guadagni 9 euro l'ordi l'ora con il costo della vita che c'è qua capite che è un problema. Ehm altre cose interessanti è per esempio dove lavoro io che è una grande catena di abbigliamento c'è la possibilità di lavorare in fascia oraria 17-22 e il 95 per cento di coloro che lavorano in questa fascia oraria sono donne con figli. Eh durante la pandemia l'orario di lavoro è cambiato e molte delle mie colleghe non si possono non si sono potute recare al lavoro prima delle 17 per i motivi che ho spiegato prima e queste ore non lavorate non sono state pagate in quando lo stipendio è allargito su base oraria e non su base fissa mensile. E peraltro ci sono eh ci sono stati continuano ad esserci continui episodi di di mobbing perché eh se ci si assenta o si assenti dal lavoro per più di uno o due giorni l'ufficio personale si chiama eh mille volte eh durante durante l'assenza per chiedere quando si torna e in molti casi se si assenti per malattia o per malattia ehm di altri dei figli per più di cinque giorni l'anno non al mese l'anno il contratto non viene non viene rinnovato e eh ovviamente anche qua eh in periodo di pandemia lo lo smart working eh è qualcosa che eh è eh è molto è molto utilizzato veniva utilizzato anche prima ehm ma ehm veniva utilizzato anche prima proprio per i motivi che che spiegavo ehm cioè la 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 cura dei figli principalmente. Io abito davanti a una scuola elementare e alle tre del pomeriggio quando i bambini escono eh da scuola l'ottanta per cento di quelli che vanno a recuperare i figli sono sono donne. E sinceramente mi fa un po' ridere il fatto che per certe femministe piccolo borghesi sia un abominio quando una donna richiede di lavorare di lavorare part time perché dal loro punto di vista si dovrebbe insistere maggiormente sulla carriera senza però proferir parola sul fatto che come abbiamo visto la scelta dell'uno e dell'altra è evidentemente legata all'assenza, alla presenza molto parziale di welfare state. Peraltro qui vanno molto di moda i gender study eh cioè gli studi di genere che alimentano l'idea della liberazione della donna come liberazione individuale e dunque si dice che facendo carriera eh ci si affermi come come donna. E eh sono lotte quelle sul diritto al lavoro, su un salario equo e su un sistema educativo gratuito di cui le organizzazioni della classe per ai si devono far carico cercando di organizzare lavoratori e lavoratrici insieme e su queste rivendicazioni anche qua il sindacato conduce una lotta estremamente debole e parziale. E ho chiuso, grazie. Perfetto, grazie mille Federica. Io adesso passo la parola a Davide Fiorini. Vi chiedo nel frattempo di eh preparare i cartelli per il messaggio di solidarietà ai lavoratori della Florenzi e e subito dopo l'intervento di Davide eh faremo la foto di di gruppo con i video aperti. Do intanto la parola a Davide. Ok, funziona? Sì. Sì, perfetto. Allora sì, io volevo dare un contributo generale, storico, una discussione mi pareva utile. Eh parto da un punto, questo convegno ha molti meriti, molti obiettivi, penso che uno di questi sia anche dare l'opportunità ai compagni di riprendere un po' di di familiarità eh con il contributo femminile sia allo sviluppo storico del movimento operaio eh sia allo sviluppo teorico del del marxismo. Eh nel corso della discussione sono stati citati alcuni nomi, Eleanor Marx, Camilla Ravera, ieri abbiamo ricordato l'anniversario della nascita di Rosa Luxemburg. Io volevo partire da da un contributo di di Clara Zetkin eh che per alcuni aspetti è un po' meno conosciuta di Rosa Luxemburg ma ha dato un contributo fondamentale anche perché per motivi storici anche anagrafici diciamo eh ha rappresentato un vero e proprio ponte tra una fase pioneristica diciamo del del movimento operaio, lei conobbe personalmente sia Engels eh che Babel e un ponte appunto tra questa fase e la fase diciamo successiva del dell'assalto al cielo degli anni venti eh legando poi il suo nome appunto alla rivoluzione d'ottobre e soprattutto allo sviluppo della terza internazionale. Ehm c'è uno scritto, mi dispiace non potervi dare la data perché non la so, eh che storia del movimento proletario proletario femminile tedesco eh cui Clara Zetkin fa una una disamina generale appunto eh della storia degli ultimi degli ultimi anni del del movimento tedesco in cui ci dice una cosa che è poco conosciuta credo eh e che oggi appare anche un po' strana tra l'altro farebbe un po' storcere il naso eh ci dice cioè che ad un certo punto dello sviluppo storico del movimento operaio tedesco lei fa appunto riferimento alla realtà tedesca che conosceva eh nelle organizzazioni del movimento operaio si è sviluppato un dibattito attorno a due domande fondamentali ecco per per fare una sintesi eh la prima se fosse opportuno promuovere il il lavoro femminile e la seconda se fosse opportuno di conseguenza aprire le organizzazioni sindacali che stavano in realtà nascendo ehm alle donne. Ora l'esistenza stessa di questo dibattito eh nel quale i marxisti per dovere di che per dovere di cronaca tra l'altro rispondevano sì a entrambe le domande erano contrapposti ai riformisti seguaci di Ferdinando Lassalle eh dimostra che esisteva eh senza dovercelo nascondere eh nel movimento operaio che era prevalentemente maschile una certa diffidenza verso il lavoro delle donne. Perché? Perché in quella fase eh l'ingresso nelle fabbriche eh delle donne e anche dei bambini eh che erano entrambi settori precari, ultra ricattabili eh molto spesso analfabeti e totalmente desindacalizzati eh questo ingresso significò per migliaia di lavoratori uomini ehm la disoccupazione o l'abbassamento di salario perché appunto eh fu utilizzato come grimaldello come oggi appunto anche il lavoro eh del dei lavoratori migranti eh per un abbassamento generale dei salari. Ora se teniamo conto eh che assieme a questa fase storica l'altra grande immissione diciamo così di di donne nel mercato del lavoro è coincisa con le due guerre mondiali ehm per superire appunto alla mancanza di manodopera maschile eh che era semplicemente stata mandata a morire ammazzata sul fronte eh possiamo concludere che dal punto di vista storico generale eh il capitalismo ha inteso il lavoro femminile non come base dell'emancipazione delle donne ma eh come uno strumento eh per perfezionare il dominio del capitale sul lavoro salariato eh in tutti i paesi in tutti i paesi del mondo e attraverso appunto la guerra mondiale eh sulla globalità del pianeta. Ora io credo che la consapevolezza di di questo dato che comunque è anche emerso nel dibattito di questa mattina eh e anche la memoria storica eh di questi tipi di dibattiti che si sono sviluppati nel movimento operaio eh che sono esistiti eh devono aiutarci oggi eh anche a orientare e perfezionare eh il nostro approccio sindacale eh soprattutto eh questo è un tema che penso possa essere sollevato qui eh verso settori di eh classe lavoratrice, classe operaia maschile che sono poco o per niente sensibili eh uso un po' un eufemismo tra l'altro eh alla questione femminile e lo si può fare spiegando una cosa che ogni avanzamento sul piano dei diritti e sul piano dei salari eh delle donne lavoratrici è un avanzamento per tutta la classe lavoratrice perché eh strappa alla ricattabilità eh un settore importante che oramai è maggioritario non più come ai tempi di Clara Zetkin eh della classe operaia e questo può essere fatto e soprattutto può essere consolidato solo nel quadro di un programma unificante eh che si basi sulla lotta di classe di tutta la classe operaia contro questo sistema. Eh ho chiuso il mio intervento. Grazie. Grazie mille Davide. Molto interessante dibattito che c'è stato eh do la parola a eh Margherita che farà le conclusioni e quindi senza ulteriori indugi passerei subito la parola a lei. sì ok ci sono ehm ok compagni io vabbè intanto eh proverò a essere breve ehm vi ringrazio eh tutti anche perché eh molti interventi hanno approfondito e hanno dettagliato tutta una serie di aspetti questo mi permette anche diciamo di eh poter eh non allungarmi troppo nelle 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 conclusioni e è chiaro che ehm lo dicevano anche nei primi interventi rispetto diciamo a qual è il il gioco qual è diciamo eh il livello di doppia eh presenza che vivono le donne sulla quale diciamo i padroni giocano eh per eh flessibilizzare, precarizzare, sfruttare e nel caso anche licenziare è il tema ehm decisivo eh ed è chiaro che nel corso dei degli anni eh soprattutto quando c'è stato diciamo quando eh abbiamo eh affrontato tutto un livello di ehm di abbassamento e di erosione dei diritti eh uno dei temi eh che 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 ci fanno riflettere e che ci poniamo è proprio la l'abdicazione delle direzioni sindacali e diciamo le responsabilità eh delle direzioni sindacali rispetto diciamo eh a a non porre un'argine e a non diciamo rilanciare eh del le lotte eh e questo diciamo è una questione ehm molto eh scottante. Eh in questi mesi un elemento che emerge che in parte è emerso anche in questa discussione ma che in generale anche diciamo nell'esperienza di lavoro eh di attività sindacale spesso ci troviamo a discutere con colleghe, con lavoratrici eh e nostre compagne eh un elemento eh che è benzina sul fuoco è proprio mh il tema del paternalismo oltre che del maschilismo che eh diciamo eh di cui diciamo sono impregnati ehm i luoghi di lavoro ed alcuni settori che saranno un altro elemento diciamo in questa condizione ormai insopportabile per lavoratrici che sarà un'ulteriore eh miccia ehm rispetto alla questione dei congedi che ponevano tante compagne perché è chiaro che uno dei temi che poi eh è emerso in maniera più plastica eh proprio perché è una condazione materiale eh importante per tantissime lavoratrici è il tema della eh maternità. Eh in questi due mesi ehm non 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 c'è stato nessun tipo di accesso neanche ai mise di congedi eh che eh c'erano nei mesi precedenti proprio perché appunto sono scaduti eh a dicembre e anche su questo diciamo eh è molto significativo che eh la CGL, l'area welfare della CGL scriva sul Corriere della Sera ehm che questo governo deve provare a garantirli e fa una proposta anche di retroattività cioè di provare a recuperare eh quelli persi confidando diciamo nella buona volontà eh della della Ministra Bonetti alla quale la CGL ha scritto insieme al Ministro del Lavoro ehm Orlando eh e che appunto eh noi non possiamo pensare come attivisti e come militanti ma anche come lavoratrici appunto che eh in questo momento la delega eh o eh la speranza che qualcosa ci viene concesso è la eh la la soluzione. Ehm credo che ehm molti compagni l'hanno detto ehm noi abbiamo un sistema di eh tutele sicuramente non avanzatissimo però delle tutele sulla carta esistono ma nonostante questo eh i casi di dimissioni in bianco, di demanzionamenti, di mobbing eh sono all'ordine del giorno. Eh compagni i padroni eh cercano e trovano eh e si giocano tutte le carte necessarie per poter aggirare diciamo quello che sulla carta dovrebbe esserci eh garantito e su questo ehm per esempio ehm sottolineo che la nostra Costituzione la tanto decantata Costituzione più bella del mondo eh sul tema del appunto del lavoro nell'articolo trentasette dice una cosa eh precisa cioè pur diciamo riconoscendo alla donna lavoratrice gli stessi diritti, le stesse retribuzioni, la parità eh eccetera eccetera in un passaggio dice eh tutto questo va consentito ehm a a patto che però si garantisca l'adempimento il riferimento alle donne sostanzialmente alla donna alla sua essenziale funzione familiare e quindi quanto di quanto più familista ehm è possibile eh e quindi appunto eh stiamo parlando di quello che ci concede la democrazia ehm borghese sostanzialmente e ed è chiaro che gli episodi di eh diciamo di discriminazione ehm sono eh all'ordine del giorno e l'argine da parte nostra cioè l'unico strumento che noi abbiamo resta la battaglia sindacale nei nostri posti di lavoro perché in quei settori dove comunque c'è poca sindacalizzazione o c'è un isolamento delle lavoratrici queste cose avvengono con molta più facilità perché i padroni hanno più possibilità di affondare il coltello nel burro e quindi questo elemento qua per quanto non è risolutorio perché è chiaro che la nostra è una prospettiva di altra società però rientra in quella in quegli obiettivi che noi dobbiamo darci nella nostra battaglia quotidiana di organizzarci di lottare e diciamo anche di pretendere eh la presenza sindacale organizzare costruirla e provare diciamo anche a ehm unirci con 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 i nostri con i nostri colleghi appunto per poter in qualche modo diciamo ehm da un certo punto di vista anche difendere quello che dovrebbe essere diciamo la eh la normalità. Eh molti compagni eh e compagni chiaramente sono concentrati su ehm la centralità della lotta generale ehm all'impianto perché come abbiamo spiegato e come sempre spieghiamo eh è anche il punto eh è la lotta di classe in ultima analisi diciamo è eh il motore e soprattutto eh è la lotta dei lavoratori e l'ascesa della lotta unita dei lavoratori che è in grado di mettere in discussione i rapporti di forza eh nella società e su questo appunto mh ritorno a le esperienze eh delle lotte che eh in parte abbiamo anche discusso non per spirito descrittivo ma perché ci insegnano delle cose che intanto appunto il frutto di quelle conquiste è il frutto della lotta delle lavoratrici e dei lavoratori ma ci insegna ancora un'altra cosa quanto sia decisivo il protagonismo e l'attivismo nella messa in discussione dello stato di cose presenti nella messa in discussione dei padroni e anche nella messa in discussione delle direzioni sindacali laddove queste non sono all'altezza dei compiti che invece dovrebbero eh avere e su questo per esempio anche diciamo eh il grande spirito le grandi battaglie e diciamo ehm e ehm le spinte forti di di quella stagione che spinsero e obbligarono le direzioni sindacali diciamo in qualche modo a eh cambiare rotta e adattarsi alle pressioni del movimento sono un insegnamento importante e ci dice anche qual è la capacità che lavori hanno diciamo di mettere in discussione e di usare lo strumento della lotta sindacale anche su eh su questo aspetto e ci dice anche un'altra cosa di quanto sia importante lavorare al coinvolgimento delle donne delle lavoratrici nella ehm in un processo diciamo di eh consapevolezza e di politicizzazione Mario diceva una cosa secondo me molto interessante e vado appunto verso le eh conclusioni eh che ehm non c'è fiducia nella capacità di lotta dei lavoratori e delle lavoratrici questo è vero ma io credo che ci sia anche molta paura nel potenziale di lotta che eh invece i lavoratori e le lavoratrici seppur eh diciamo non a livelli generalizzati stanno eh esprimendo perché intanto siamo in una crisi mondiale e ci sono diciamo c'è una risposta generale e una radicalizzazione che è sotto gli occhi di tutti e poi perché qualche segnale anche qui l'abbiamo visto proprio durante la pandemia piccoli esempi ma che sono sintomatici appunto di un processo noi abbiamo visto nei primi mesi proprio nel boom diciamo anche della paura e della eh della dell'imponenza diciamo della dei contagi eh giovani e giovanissime ehm studentesse di medicina buttate nei reparti a lavorare in maniera estenuante fare dei presidi in piazza per dire appunto per rivendicare eh sì la loro responsabilità verso appunto ehm la cura ma anche i loro diritti e abbiamo visto eh per esempio nella scuola una pressione che i lavoratori precari eh i famosi organici covid hanno fatto all'inizio rispetto alla proposta che c'era di eh assumere questo personale ma che poteva essere tranquillamente licenziato in qualsiasi momento se il contagio eh avesse raggiunto livelli più eh cioè se fosse diminuito e quindi se non ci fosse stato più bisogno di questa carrellata di lavoratori usegetta. Una pressione che le direzioni sindacali hanno colto e hanno eh seppur su un piano istituzionale provato subito a risolvere. Questo proprio perché elementi di esplosività ci sono e eh diciamo creano anche un certo tipo di eh di di paura. Eh compagni io credo che questo sia mh importante. Non è un caso che noi eh anche attraverso il nostro lavoro sindacale con l'area giornale di marzo abbiamo nel corso eh di di quest'anno organizzato discussioni organizzato con missioni di settore eh per elaborare un programma eh e non soltanto appunto per descrivere la realtà ma per armarci di un programma di rivendicazioni e di lotte mettendo insieme compagni dei settori sanità, scuola ehm e trasporti eccetera proprio perché appunto è necessario organizzare, riorganizzarsi e costruire questo protagonismo e questo coinvolgimento e abbiamo messo al centro la questione del protagonismo, del controllo dei lavoratori, gli unici in grado appunto di tutelarsi e tutelare eh la maggioranza e questo per noi è molto chiaro e questo aspetto non è secondario anche rispetto alla discussione che abbiamo fatto e alle esperienze che le compagne eh hanno riportato che poi sono frutto diciamo della quotidianità eh di quello che viviamo sulla nostra eh pelle e appunto su questo noi dobbiamo ehm diciamo mh eh lavorare anche per appunto mh coinvolgere le lavoratrici perché il doppio fardello, l'oppressione, la cura ha un altro risvolto negativo cioè anche diciamo rinchiudere lavoratrici diciamo e rendere più difficile per loro la partecipazione all'attività politica e sindacale e spesso quando questo avviene soprattutto in alcuni settori schiacciati eh e più sfruttati come quello delle pulizie o tanti altri questo tipo di lavoro di lotta di emancipazione avviene anche facendo delle guerre nella propria casa nella propria famiglia con i propri compagni eh e questo diciamo è un elemento che non dobbiamo eh non dobbiamo prendere in considerazione assieme al fatto che appunto eh la nostra classe di riferimento appunto sono le proletarie in ultima analisi che pagano il prezzo più alto della questione diciamo della conciliazione e del peso eh della cura. Ehm io chiudo ehm con gli ultimi minuti che mi restano per dire una cosa in generale rispetto a i nostri compiti eh e la la campagna che abbiamo fatto. Questo dibattito compagni io penso che ci deve eh non voglio essere retorica ma ci deve rendere orgogliosi perché dimostra anche diciamo che non soltanto noi abbiamo delle esperienze ma cerchiamo di costruire eh un'alternativa anche nel nostro diciamo lavoro quotidiano e dimostra che siamo delle combattenti eh della della classe operaia e questo è un punto di forza dal mio punto di vista eh decisivo. E il senso di questa campagna è proprio questo appunto provare a discutere e provare diciamo anche a lanciare una prospettiva e un programma di eh di lotta e di organizzazione. Noi abbiamo fatto questa campagna ehm con lavoro preparatorio importante fatto di volantinaggi, attacchinaggi, discussione con le giovani eh ma anche provando diciamo a intercettare le lavoratrici quindi non soltanto verso le scuole ma verso i luoghi di passaggio, i consultori e le fabbriche. E io riporto un esempio molto piccolo però che abbiamo eh diciamo toccato con mano nella nostra città qui a Parma di un volantinaggio fatto dalle compagne ehm ad un'azienda sostanzialmente dove delle lavoratrici si sono fermate intanto incuriosite dal nostro materiale ma dicendoci anche sì è vero è tutto giusto è tutto così è molto bene che ancora si discute e c'è chi prova a organizzare. A noi non ci interessa chiaramente eh brave brave continuate ma è sintomatico diciamo di istentore che c'è tra questo settore della della classe eh operaia. E riporto un altro esempio che secondo me dà il senso del lavoro che noi stiamo provando eh a costruire che è una discussione avuta con eh un'educatrice giovane qualche giorno fa che ci raccontava la sua esperienza diciamo di enorme pressione al lavoro e della ehm diciamo ehm del tentativo che ha fatto durante questa pandemia di organizzare i suoi colleghi. Sapete che gli educatori sono usciti devastati da questa da questa pandemia. Non sto qui a riportare le cose che abbiamo anche discusso in altre sedi eh e eh la difficoltà che ha avuto soprattutto per lo stracismo dei rappresentanti sindacali che non sono che insomma le hanno in qualche modo tagliato le gambe in questo lavoro di costruzione eh e di lotta e che ci ha detto guardando il vostro materiale leggendo i vostri articoli e le vostre prospettive le vostre il vostro programma questo mi ha dato un elemento di forza per pensare che non perdo il tempo a fare questo lavoro e che c'è ancora la possibilità e c'è cioè di non essere più isolata in quello che sento in quello che voglio mettere eh in campo. Io credo che appunto questi sono degli esempi piccoli ma che danno la dimostrazione del fermento che c'è della voglia e della disponibilità eh a lottare che c'è tra le lavoratrici e che appunto noi dobbiamo saper eh cogliere penso che da anche molto il senso del lavoro eh che stiamo facendo e questo ci deve dare consapevolezza eh e anche eh fiducia che tutta questa rabbia tutto questo questa pressione si trasformerà eh in in lotta e su questo compagni e compagni noi dobbiamo costruire ehm tenendo con noi appunto la consapevolezza che è un lavoro paziente e e anche molto duro ma allo stesso tempo da fare con estremo entusiasmo. Grazie.